Ah allora Sembra brutto da dire ma siamo on live Ma non è vero Fra 233 secondi saremo on live Ah che bravo Yure che è stato spostato De cattiveria No veramente Sol è stato spostato Eh Sol scusa Sol Ok Mi ha fatto fare Mi ha fatto fare anche il post su Instagram Incredibile madonna ragazzi Posso fare i post su Instagram No non c'entra un cazzo Non c'entra niente l'iPhone X No non c'entra Starò dentro un banner che mi farà fare tipo due post al giorno Tipo la punizione Eh vabbè un batte Vi ricordo che siamo on live Cioè la live non è partita Ma fidatevi che siamo on live Fra 3 minuti Ok quindi fra 193 secondi siamo on live Ma che scherzo Ma no 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 Ma è un tot tot bello No no ma poi Sai che c'è Prima non lo usavo Eh non lo volevo usare Ma in realtà Giocando con Clash Royale C'ho due iPad E quindi so come si usa più o meno Capito come Senti ma tu lo sapevi che si possono fare Cioè non so se l'hai impostato Eh Le foto in 4K No ma non l'ho impostato Le foto in 4K No 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 Daniele Un euro grazie mille Fabrizio Cosmai Benvenuto dagli sponsor Ma credo che questa sia una Risponsor L'ha fatta prima Ragazzi allora è un po' strano Fare interazione con voi Sarà un po' difficile oggi Perché dato che giochiamo Con i server privati Eh ho messo Il ritardo Nella streaming Quindi quello che noi facciamo Voi lo vedete Dopo 240 secondi La chat io la vedo subito Ma le mie risposte arriveranno A 240 secondi Ragion per cui La chat è stata Abilitata Solo per gli sponsor Del mio canale Che comunque Eh così almeno Quando vi devo passare La Non è vero Io la La password La devo Passare Bella La password La devo Sì La password La devo passare Sulla scheda community Mi stavo per sbagliare Che cobomba di me Quando me lo dici? Poi il time out Di 5 minuti Ok Quindi vi ricordo Sponsor Che la password La trovate Nella scheda community Del mio canale Ve le metto La Ok Le password E fin qua Ci siamo Iuri sono arrivato In orario Ma sei bravissimo Sei incredibile Solo Grazie Incredibile Guarda come scandisce bene Le lettere Allora tra l'altro Ho mangiato All'incirca 120 grammi Di fagioli Forse qualcosina in più Infatti ho anche dato Mezzo di stomaco Per essere chiaro Un pochino E Una fettina Di pancarrè E 30 grammi Di cioccolata fondente Che quelli non me li toglie nessuno Ma mi hanno dei buoni pancarrè Io ho provato anche A fare pancarrè Tavoletta di 30 grammi Di cioccolato Pancarrè E l'ho messa Nella piastra Il problema è che Quel cioccolato Essendo lavorato a freddo Se viene riscaldato Cambia completamente Il sapore E perde Eh sì Era una merda È abbastanza Posso vedere la chat Della live Perché sinceramente Ancora non mi appare Non ti appare Perché in realtà Per te La live inizia Fra 25 secondi 26-25 secondi In questo momento Che è strana Ciao Scricci Buonasera Ma perché è strana Ho messo io in ritardo Just Non è strana È strana come cosa Perché è strana come cosa Perché noi parliamo Dopo che le persone Si ascoltano Eh lo so Lo so Infatti è un po' particolare Ma è l'unico modo Per non farci costare Anche le madri E quindi Perché se no Perché se no È un casino È un casino Ecco guarda In questo momento La live è partita Proprio adesso Proprio adesso Deve essere partita la live Now Adesso È arrivata la notifica Mi sa Sì sì No no Ma è partita È partita Monizia Eccolo sì Quindi capite Da quando abbiamo cominciato Per noi è partita adesso Quindi stiamo in un loop temporale Un po' particolare Vediamo 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 Oggi mi sento Bello bello carico Oggi mi sento Un tot carico Pensate in G post Perché tu mi parli Io faccio La pupù E maramara E appartiene Io faccio Sempre la pupù Pensa Ieri Pesavo Per sapere Per là 134 E 7 Oggi mi vado a pesare Faccio 133 E 6 Wow 900 grammi In un giorno Ho perso Sì non c'ha senso Questo è il mio corpo Bislacco Che fa cose Bislacche Ma Insomma va bene Va bene Te sur Real force Cosa E lanciato Delle cose Bapadabam Bapadabam Bapadabara Quando lanciate Sono molto più utile Ho lanciato Erano due fazzoletti Che io Spesso e volentieri Mi soffio il naso Cioè mi faccio il toast Porto il fazzoletto Una volta usato Per il toast Mi ci soffio il naso Vabbè Doppio utilizzo Che volete ragazzi Ecologia Con tutti gli sprechi Vabbè ma non è che Dentro c'è la merda Esatto E poi è pure profumato Super Nancy Astorino Vincenzo Buonasera bro Benvenuto agli sponsor Senza te ne ho un pazzo Perché tu mi appagiano Ma non sai che mi è successo Mirko Ma a noi può interessare Come cosa Allora l'altro ieri Mi è arrivata una notifica Di Facebook Sì Che il 4 aprile Sì Mi ha ricordato Che ci siamo incontrati La prima volta da Romics Sì Mi pensate cosa Della vita Dopo quattro anni Siamo qui E pensa quanto siamo Spigati Porca puttana Che culo proprio Siamo proprio Siamo proprio Fortunati L'ho detto Francesco Mansueto Buonasera Distruggili anche oggi Grazie mille bro Ma che te vuoi distrugge Ma noi dobbiamo fare lo sponsor A che dobbiamo fare Tark007 Benvenuto tra gli sponsor Thank you so much Quanto mi piace Gandalf Grio gamer Ciccio cinque mesi di no Non ho capito Di noi Ah ok No di noi Di noi No ivy devi Refresciare la scheda Degli sponsor Quando te lo dico io Tu vai tranquillo Allora praticamente Quando metto la password Nella scheda community Io e i moderatori Vi diciamo Pass nella scheda Cioè lo sanno solo i I moderator Capito no? I sponsor Quindi Tipo Ho dato la pass Nella scheda community Poi ci organizziamo What's up Benvenuto agli sponsor What's up Bella ziu Tra poco iniziamo eh No No Tant'è lo vedrai Tra poco ivy Quando inizia La partita Avvertiamo Noi In chat Dicendo Che la pass Si trova Nella scheda Community Ok Ma Jacopo Rollo Era Si Però non ha affatto Di seguito Bella Jacopo Rollo Bella zio Si 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 Comunque alla fine Non si è vista più Se la cosa degli sponsor Per due volte Di fila funzionano No Che bella come canzone Lo faccio per voi Il feed arrivano dopo due minuti Eh lo so bro Lo so lo so Ma ancora non sono arrivati Le feed A me mi ha disegnato Ottomila persone A me 9000 dai 9000 Sono ancora più contento Ragazzi E c'è anche qualche dislike Stavolta Si Facciamo in team Ragazzi Facciamo in team Perché così possono entrare Anche le persone Che giocano da playstation E anche da xbox Volendo Se si Aggregano A qualcuno Che gioca con pc È l'unico modo Che abbiamo Per giocare un po' Tutti GOL2ROC Come faccio Se ho l'xbox one Te l'ho detto Devi giocare con qualcuno Che ha il pc Già l'ho spiegato Diverse volte Vi ricordo di lasciare subito Un bel pollicione in su Se vi va Se no vi dimenticate Alleluia 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 Allora Sol è impossibile Che io e te Andiamo In sincron In ts Cioè È più probabile Che facciamo A Per due ore Che trovare la sincron Impossibile Ma da me no Era strano Mi dava fastidio All'orecchia Capito È proprio Alleluia Cioè Ognuno dovrebbe andare Per i suoi gassi E trovare il ritmo giusto Perché se no Se uno sente l'altro È finita Non funziona più niente Tutto rotto Allora Intanto Se è entrata da me Sì Aspetta Vado da Jure Sì Faccemi i corvi Eh Direi Eh anche se è un po' scontata Come skin Attenzione Eh Va bene Ti panchettare Vogliamo fare Ah vabbè Proviamo a fare tutti Tutti queste qua Corvi Ok Ho dato la cosa a Mirko Facciamo squadra Facciamo squadra Mette La prossima volta Te vanno Se continui Infamous Mattia Benvenuto Tra gli sponsor Bella zì Benvenuto Grazie mille Massimiliano 2 euro Ma la PS4 Come fa a giocare Con i server privati Devi giocare con qualcuno Che gioca da pc E già ve l'ho spiegato Come cosa io Link qui sotto In descrizione Per scaricare fortnite Dovete scaricare fortnite Metterlo sul pc Collegare il vostro account Xbox O playstation Una volta fatto quello Mandate la richiesta D'amicizia Mostra l'amico Gioca sul pc E da lì Entrate tutti quanti Nei server C'è un modo più facile Cristiano Un euro Bella zì Ma ci vuoi far parlare Che cosa è? Che cosa è? È un modo più semplice Adesso Fai direttamente Dalla play Però non so cosa Ma mi avevano informato Eh ma se te sei informato male Stai zitto Io Eh ma che cazzo C'è famo Adesso che ci hai detto Sto cosa Scusa Mamma mia Ho una volta Che ne fa una giusta Non c'è Tom line Due euro Grazie mille Ma vaffanculo va Vaffanculo va Perché ecco Secondo me Anche oggi Cadi fuori dalla mappa No no Allora Io direi Di incominciare D'accordo? Ci siamo? A poco Allora Scheda community E facciamo Per gli sponsor Prima partita Pass E mettiamo Tanto tu la starti qua No? C'è la starti tu Sì Nel senso che Sì mettere la password Quando la dico Cioè quando dico Che l'ho mandata La password Scheda community Schivete Sì Schivete Posso andare in scheda Esatto L'ho messa in scheda community Eh Vai Pass Messa In scheda Community Ah bella la pass Gli sponsor Allora Aspetto un secondo Ok Che bello adesso Sì veramente Sono gli sponsor Vabbè Poi qualche amico Vabbè Vabbè Però diciamo che Vabbè Ipolicamente Il cerchio è quello Diciamo Bella Pietrox Lewis Due euro Sole di donation Grazie mille No il mio cerchio è solo Il triangolo fa 2 Speriamo che Speriamo che riescono Dai i primi stanno entrando Dai dai Quindi nella scheda community Ragazzi La password Bella Mauro Grazie mille Alessietta Grazie mille Vai Sono stanca tutto Quando in qua i corvi Fanno la breakdance Ma ancora Che fa la breakdance È troppo figo Che giochiamo in 28? Eh beh Giocheremo un pochi oggi È così eh Meglio quasi 27 Che è qualcuno 27 Non vuole più giocare a Gigiogamer? Ha detto Mi sto caccando ad osso D'anni fa Da Grazie mille Due euro Ragazzi Ve lo ricordo La password Nella scheda community Eh beh Può essere che stasera Ci stanno pochi sponsor Ragazzi eh Può essere Cioè io Vedete Chi non è sponsor Sarebbe Un'ottima serata Per diventare sponsor Perché Avete la possibilità Di giocare Dai fate la sponsor E venite a legnare Ovviamente gli sponsor Non dicessero La Password No venite a ballare Esatto Andrei Andrei Aita Grazie mille È in squadre Ragazzi In squadre In squadre In squadre In squadre Eh oggi Questi sono solo sponsor Ragazzi però eh Eh però Meglio da una parte Sai No no Per carità di dio Ma aspettiamo un po' di più Perché di solito 60 70 Riusciamo a startà 32 Dobbiamo aspettare Altro pochino Cioè nel senso Eh sì Aspettiamo un attimo Sì sì Siamo 13.200 Sì ma no Ma non so Partite le feed Tranquillamente Accesso e serve Eh raga Eh sì Così è così Eh Basti cavolo Che fa Ci possiamo far mica niente Pinnacoli Marco xdboom Grazie mille Benvenuto Tra gli sponsor Cicci Romic senza Dei big di youtube È una merda Che devi fa Abbiamo a 29 Alessandro Un euro Grazie mille Bella zi Eh raga È così Eh no Andiamo a par Vabbè sarà una partita Un po' strana No ma io capisco Che la gente Purtroppo Cioè calcola che Già non ho Non ho tanti sponsor In più Non tutti sono connessi E in più Metti che non lo sapevano E in più Metti che la maggior parte C'ha playstation È fecondo C'è una vita sociale Ma to' che schifo La vita sociale Sì Eh sì Eh sì È solo uno Perché magari Quello è il ninja Sarebbe interessante È forte ragazzi È bravo È bravo Venite qua Ah Che schiazzo È bravino È bravino Eh è bravo Ma noi siamo quattro Ma Eh Indovina chi è Non lo so Naxxdx Mio cugino Ah sì Non era Non era male Non era male Ti giuro Non era male Tranquillo Sai com'è morto È morto un culato Scaracca Alessandro Schatecchi Un euro Alle bro Due euro Ti voglio bene ciccio Osanna boy Grazie mille Infamous Mattia Dieci euro Grande ci Grazie mille E Matteo Su un euro Grazie mille Ragazzi Questa è una serata Dedicata agli sponsor Se volete giocare con me questa sera A quasi al 100% Fate la sponsor E potete giocare Che non è male ragazzi Non è male Ma mi dispiace che stasera non sono partite proprio Secondo me non sono partite le feed Io ve lo dico Secondo me la partita Però è una prossima partita No no ma non hai capito Per me non sono partite le feed Cioè non c'è senso 1600 persone Bella Mauro Sì assolutamente Assolutamente Mi sono innamorato Sì ma di tuo marito Hendrix Due euro Grande ciccio Continua così Grazie mille Thank you so much Di tuo marito Questa era una partita molto tranquilla Ah è normale Oh qua c'è una vendor Eh ma non vi credete Perché secondo me C'è quel bastardone di wizard Da qualche parte Sì sì Lo dico io Blade Runner Bella zio È uno che gioca spesso con noi Sì sì Ragazzi andiamo Lorenzo Bella zio Benvenuto tra gli sponsor Quindi l'ho detto ragazzi Io ve lo ripeto Per No ve lo dico aspettate Praticamente Praticamente se voi avete playstation O xbox Per giocare con noi Dovete avere un amico Che ha pc E che vi ha tutti quanti In lista amici Se potete giocare così X Christi 5 euro Grande c Ogni giorno Non vedo Ora che arrivasse la sera Ogni giorno Vabbè comunque Ogni giorno Non vedo ora che viene la live Per vedere la mia Vabbè Scusa sì Ma sto rincoglioni Do io Non è che è scritto Maledesso Io che sono imbecille Quindi Ema 006 2 euro Dagli che il coglione Abbatti tutti Sì A fuori delle cazzate Bella Tipo se stiamo In endgame Praticamente Vai ragazzi Siamo in top 24 Ma si sono buttati Tutti a pinnacoli No non credo Perché se no Erano tutti morti adesso Exoers Benvenuto tra gli sponsor Che poi ragazzi Io Io non voglio Dirvi cazzate No Ma Se voi siete Un gruppo di amici E vorreste giocare Con noi Se vi mettete Tutti insieme E date un euro per uno Fate 5 euro Diventate sponsor Uno di voi E gli altri giocano Non è che ci vuole Un genio A capirlo Lo faccio per voi Più menti che sabato Esatto Sì sì ma lo so Infatti il sabato La gente fa finta Di avere La vita sociale Ma Cioè in realtà è vero Schifosi loro Che bello Io già mi immagino Già mi immagino Il primo fight Che famo Morimo tutti Sai quanto russico Una cifra Ah ah Poi c'è una cassa Dia crew Benvenuto dagli sponsor Bro Benvenuto Benvenuto Uh queste sono belle Me le prendo Uh no questa è buona Eh muori Senza di te non posso Stare perché tu Ma parti Nooo No ce l'ho Perché Stanno sopra Stanno sopra Sì vai 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 Possiamo pusharli Secondo me Eh bra Sono bravi Ragazzi Questo è wizard E friend Siamo nella merda E wizard E friend Ragazzi E wizard E friend Siamo nella merda Sai perché Raga Dobbiamo pushar Arriva Stanno arrivare La safe Stanno pushando Sì sì È lì sopra Ragazzi Dietro Eh Sono loro Sono loro Sono loro Sono loro Ah Sono i rackets Hanno jumpato Verso di voi Ve li trovate dietro Niente è vero Stavamo messi troppo male Ragazzi Troppo Troppo male L'ho abbattuto È stato bello Siamo arrivati Noni Dai Alla fine 50 Emma 006 Grazie mille Carlos Saueres Benvenuto agli sponsor Anche a te Emma 006 Francesco 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 Piacenti Bella Per esempio Io sono sicuro Che G1 Fra tutti E loro Quattro Non uso Le sponsor Uno Per sbaglio Mortacci Loro No Dai 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 Ci sta Ci sta Eh raga Pippo Baudi Benvenuto agli sponsor Pensavo fosse wizard Pensavo fosse wizard Ma io l'ho già detto Noi non ce la facciamo A livello di team Andare contro I G1 Non ce la facciamo No no Noi non ce la facciamo A livello di team Non ce la possiamo fare Flavio Ruggero 2 euro Ma giochi solo a squadra È vero? Sì stasera sì Per far giocare un po' tutti Poi vediamo eh Magari più avanti Se rosico Un'altra Due o tre volte Gioco anche il singolo Però Però ci sta Ci sta Vabbè però Voglio vedere adesso I rankings Se c'è il team di wizard Sarebbe interessante Purtroppo ve l'avevo detto Che erano bravi Io ho provato a costruire Non glielo ho fatto al tempo Ma io calcola Stavo fuori proprio Stavo in acqua No ma poi non hai capito Sfiga Sfiga Ha voluto Che c'avevamo la safe Quindi l'ho dovuto A giocare male No ma a livello di team Non ce la facciamo proprio Cioè Non ce la facciamo Dobbiamo allenarci Dobbiamo No no Ma loro giocano solo a questo Lo giocano in maniera competitiva No Sol Non Non arrivi Non arrivi ai livelli loro Cioè A livello di team Non arrivi Vabbè Nel senso Dovremmo giocare di più Poi magari uno a uno Me li schioppo Però Non è detto Sono bravi Sono bravi Sono bravi Però l'avevo detto subito Che erano bravi Li vedevo come si muovevano Infatti ho detto Ogni anatom E pensavo fossi team wizard Sì Vabbè Francesco Aprile Un euro Ragazzi mille Giovanni Russo Qual è il codice Per entrare nei server Giovanni Non fare l'imbecillotto Dai Lo dico Lo dico Nella scheda community Quando è Quando è Poi comunque L'ho detto Visto che queste sono partite Tra gli sponsor Io comunque Me le vorrei vedere tutte Anche perché non è che Mostra ma vede degli imbecilli Anzi Ma anche perché Poi non ci sarebbe nessuno A giocare No Non è vero Perché sono rimasti in 12 Anzi Siamo 25 mila persone Quindi ci sta la gente Che gioca Però Capito Quindi Va bene La COG è devastante La La COG La COG Ah che scherzi Mamma mia Ci ha devastato Quel cazzo di cosa Ci ha devastato serio Lo sa già Quello che viene distrutto Secondo voi C'è Wizard Oh Wizard's G L'ho visto uno Ah ma sta con i G1 Ah Ma grazie al cazzo Allora No perché non avevo capito Che stava col team con loro No no Wizard ha portato i G1 Sì ma di solito Ci stanno due team G1 G1 Con Che ne so Regens Anima Eccetera eccetera E poi altri G1 E non pensavo Che capirei Metti tutti insieme E tipo se c'è vado pure io Là dentro Dai Ci sta Ci sta In squadra Sono inarrivabili Per il momento Andrea Giussani Benvenuto dagli sponsor Atomo R6 S Benvenuto dagli sponsor Bella Alessandro Stecchi Grazie mille Due euro Grazie 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 Sono Inarrivabili Seriamente Donna quando sono alti Questi Dai non vantaggi Credi Vi voglio Da so Sono bravi Sono bravi Sono bravi Se non sentite l'audio È perché l'ho tolto io Così almeno possiamo parlare E guardarli Purtroppo a livello di team Sono forti Raga Poi ho visto Reggings come gioca Un mostro a costruire Proprio un mostro Proprio Concas Saluta i pesciolini Ciao pesciolini Vabbè poi Wizard è bravo Poi Chi ce sta dentro Ehm Purtroppo noi potremmo essere Bravi anche noi Forti Competiti Però Non c'è tempo No a livello di skill Non ce la facciamo Non ce la facciamo Parlo di squadra A livello di skill Cioè proprio Se andiamo a snocciolarci In singolo Non ce la facciamo ragazzi Non ce la facciamo Tanto allenamento Eh però dovreste Però Non 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 C'è Allora Ok l'allenamento Ma devi anche partire Che devi Uno Essere predisposto A sto tipo di giochi E comunque devi aver già giocato Ad altri giochi simili Ecco Questo Ehm Quindi Siamo notevolmente svantaggio E parlo di squadra Se devo andare Eh Se ad esempio Giochi A un gioco simile a Cod Ad esempio Nel mio caso Io so forte Ma Ma Un simile gioco A Gears of War Te se ne mostro Capito Eh però Sai che c'è Ma magari fossimo Ma così È Non Ma magari fossimo Quattro ciccio Quattro ciccio Chiamere 89 Capito Dentro la squadra nostra Non è così E va bene In particolare In particolare In particolare A livello di intrattenimento È perfetto Noi siamo I best In intrattenimento Su sto gioco Inutile dirlo Ma A livello di skill No A livello di squadra No ragazzi Ero di skill di squadra No Secondo me no Però Eh ragazzi Ma che devi fare Ma loro hanno proprio Uno stile completamente Cioè Siamo anni luce Indietro rispetto a loro E comunque hanno trovato Un team forte Guarda 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 È un team forte ragazzi Non vorrei che Ah 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 Eh ma no Ma guarda che sono bravi Io te lo dico Attenzione Attenzione Due versus quattro Ah che erroraggio Poi io Sto la cosa del doppio pompa No L'ha ammazzato Che schifo Reckens Ma non si fa così Quello che hai fatto È bruttissimo Il bene è che io Uno l'ho grassiato Non l'ho uccidendo Il conto è secondo me Però Fatta di una cosa Sottovaluti troppo La situazione Cioè Non è cattiveria No no Ma che scherzi Manu Ferriero Dora 21 Bella ci saluti Checo solo È bella Ragazzi Non è che la sottovaluto Perché prima ci hanno pushato Poi ancora stavate indietro L'unico che stava pushando Ero io Sbagliato Sì infatti Io stavo in acqua Ecco Sono tutti morti G1 No no È rimasto solo Reckens Non ne vedo È rimasto Reckens Allora io vedo G1 Reckens Che cazzo E Jure Franco Eh Io Reckens Io vedo Reckens Dovrebbero essere rimasti In due ragazzi In due Parcomania TM No secondo me è rimasto solo Reckens Perché si era squagliata Con la Jump Perché era la doppia bombata E ha ammazzato Due persone Allora 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 C'è da dire anche un'altra cosa Che come al solito Noi siamo sfigati Perché eravamo in una posizione Davvero di merda C'avevamo la safe Che ci stava pushando Il bucio del culo E stavamo messi male E divisi Dai Parliamo chiaro Non voglio prendere scuse O cose Però Long scisce Vabbè Ti sei fatto scopare Ma c'è sazio Eh ma Reckens Può fa quello Guarda È un mostro Lo vedi è un mostro Ma Se trovi Sono bravi Pure questi qua Ariax Si sono bravi Ma si vede Il problema è che Il fight è stato più carino Perché sono riusciti a farlo Tutti e quanti insieme Noi siamo stati un po' sfigati Ok Siamo stati un po' sfigatucci Però sono contento Che almeno qualcun altro Di molto forte c'è No Sono molto contento Contro uno Eh sì No perché uno dei loro è morti Ah allora due Però Siamo stati un po' sfigati Simux02 Benvenuto Bro Però devo essere sincero Io Sono contento Che la community Si ritrova un pochino Sono proprio Proprio contento Quando giochiamo tutti insieme E poi lo ripeto Sono bravi G1 ragazzi Io l'ho visto giocare Sono bravi Sì assolutamente Sono bravi 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 Sono bravi ma non so Stop No Magari non so ninja Ma neanche io sono ninja Però sono bravissimi Però sono bravi Bravi sì Bravi Poi Reggins incostruiva L'ho detto sarei forte anch'io Un secondo Eh ma ci sarei capace anch'io Con la tastiera bro Guarda che col pad È diverso giocare No col pad è impossibile Col pad è impossibile Col pad è impossibile No col pad è impossibile Io col pad sono limitato ragazzi Sì sì ma perché hai una Sì c'è un momento Troppo lineare Grazie mille Simone Giannini Grazie Due euro Buon proseguimento di live Grazie mille bro Vabbè ma ragazzi Infatti ci metti Ogni tanto ti cominci a giocare Dovrei mettere Solo con la tastiera ragazzi Sì Dove che inizia Ricky Let's Benvenuto tra gli sponsor Francesco Mandala Benvenuto tra gli sponsor Grazie mille ragazzi Filippo Marsella Due euro Come si fa a collegare Il controllo al computer Tramite USB Stop Insomma stavo dicendo Quando non c'è proprio nulla da fare Proprio Ti metti con la tastiera E giochi No no Allora purtroppo io Essendo youtuber E avendo un canale Da due milioni e mezzo Di iscritti Non posso permettermi Di non avere niente da fare Significa che non lavoro Quindi In realtà Quando Dedico il mio tempo A Fortnite In particolar modo In live Dovrei Giocare con mouse e tastiera Ma qual è il problema Facendo questo Significa che i video Che registrerei Non sarei più il ciccio gamer Bravo di adesso Ma sarei un cazzo di scarso E voi sapete che la gente Appena vede che io perdo un attimo Incomincia con gli insulti Ora Bisogna decidere un attimo Che cazzo fare Dessa situazione Perché io capisco che mouse e tastiera Diventerei molto più forte Diventerei molto più forte Il problema è Ho tempo Di Imparare A usare la tastiera Perché il mio problema è quello Perché Vi garantisco che diventerei Una bestia Su Fortnite Quello è Semplicemente Quello è E' uscito Alla dentro Si si No ma sono morti Sono morti Se li pushano A merda Sono morti Pure quei due Non mi sembrano malvaggi Però Lancerazzi Lui casca Eh no no Ma ragazzi No ma se li pushano Sono morti Se li pushano Se continuano a giocare così Non lo so Attenzione L'alpino con la skin rosa Sta a Affrire supporto Ai suoi compagni Cazzo C'ho l'unico Che sta un po' Camperato Porca miseria Perché stanno Per me stanno pushando male Stanno pushando A spezzoni Ma quel punto Sul set Ari a serio L'ha pushato beneno Ebbè Attenzione Corpo di pompa Doppio pompa Che palle Ok Allora se l'è scopato In una maniera ragazzi Devastante Bravi bravi pure loro Bravi 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 Purtroppo non credo Che ce la faremo Vincere mezza partita oggi Anche se siamo 30.000 Secondo me no O incominciano ad arrivare Le lobby Quelle belle piene Dobbiamo mettere queste di skin Perché Non lo so Ma lascia il curve Ascia il curve Allora Diamo l'altra password La do io In Partita Due Pass Ok L'ho data Se per favore avvertite Sì In Ho dato la password No perché poi Sembra che password Data Hai capito come Cioè nel senso come Frostbite Frostbite X Benvenuto tra gli sponsor Grazie mille Però Devo dire che Per il momento Tre team forti siamo Nel senso che Ci stanno I G1 E ci stanno Sti ragazzi Che hanno vinto Bella Bella Reggins Mortacci Tua Meno siete in due A forse uno Perché sicuro Lo sponsor Lo sponsor Sicuro È Wizard Sicuro Bastardi G1 Raggins Benvenuto Tra gli sponsor E' venuto È venuto È venuto tra gli sponsor Nuovamente Credo Frostbite Benvenuto L'ho startata perché Giustamente adesso Siamo molti di più E la lobby si sta riempiendo Quindi Siamo quasi 32.000 Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su Ragazzi Bastardi Ma se ce la giochiamo bene Troviamo le cose giuste Vedete come facciamo i culi Io lo so Se non andiamo a faccio il bagnetto Nella Perché qualcuno Stai a mezzo All'acqua E mi stava A vicino Un'altra Eh appunto Ma infatti Per quello Io ho sbagliato Vabbè Stavo a prendere la cesta Vabbè Ma non pensavo neanche io Di trovare G1 Cioè Sono sincero Proprio con voi Non pensavo Non pensavo Cioè I G1 Me li aspettavo Di trovarmi Di domani No no Di trovarmi Di domani Di domenica Negli sponsor No Capito come Invece Vabbè ragazzi Io ma E l'ho detto Sono più forti Che cazzo Dobbiamo fare Niente Perché Sti cazzi Cioè Ragazzi Non riesco A arrivare nella casa Ve lo dico Andre 93 Grazie mille C'è gente da noi Attenzione Vado a questo cogrigio Anche io E che cazzo Sei da solo Checco Eh ma sa pure io Vai Checco Vai Siamo in due Se qualcuno Li vede Per favore Dica subito E Eccolo davanti A me Cazzo Cazzo Aiuto ragazzi Eh sapessi io Via 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 Se vi dobbiamo Iedere al cazzo Ragazzi Via via Chi è sopra Io Ok Meno male Meno male che c'è Vostito Cazzo Dei colpi Raga Dovremmo provare A pushare Io Credo di avergli Fatto Headshot Non ne sono Sicuro Dai Altri 27 Ragazzi Stanno La destra Granate 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 Uno è a 75 Raga Dobbiamo provare A pushare Raga Dobbiamo provare Io non c'ho materiali Cristo Santissimo Andiamo Andiamo A sinistra nostra È pieno Dall'altra parte Sopra cosa Attento Orca Zio Da me Eh raga Ma se voi non venite Ma siamo quasi Vai vai Non pensate a quelli per terra Vai vai Pensate a quelli sopra Pensate a quelli sopra Pensate a quelli sopra Arriva da sopra Teco Sopra te checco Sopra te checco Sopra te checco Granata Dai Cristo Sta sotto Sta sotto Sotto proprio Sotto proprio qua Solo ci vuoi provare Animà Eh ma no 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 Da me Da me Vabbè almeno non ci ammazza Vai Sono Si Bella ragazzi Bella che ci ha Bella che ci ha fatto lo scontro bravi 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 eravo senza cazzo di materiali però io non c'ho materiali tu si si ma noi stavamo messi peggio si si stavamo messi peggio non possiamo di che no no ma pure le armi c'evo sto tre colpi di merda dai 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 bravo bravo sol bravi ragazzi dai continuiamo così io pure avevo finito completamente i materiali finiti eh una volta fatto quello stop è finito era solo un team secondo noi si per dio ragazzi guarda la roba che c'è qui non avete idea non avete idea della roba che c'avevano queste madò raga ma grazie a cazzo abbiamo perso ma no non l'abbiamo cioè nel senso cioè io ho perso il fight cioè io stavo giù io l'ho perso il fight dopo leggo tutto eh 92 bob te faccio pure io da sponsor la prossima partecipo bella zio simonio curia benvenuto tra gli sponsor grazie mille etto 194 2 euro io ormai ne do quasi tutte live grazie mille ma non c'è bisogno lo sai eh andrea langura benvenuto tra gli sponsor grazie mille ragazzi io ho shield qua eh c'era l'ivialto io 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 shield vieni qua io eh ma se madonna qua venite qua che cosa che cosa una cosa che non devi fare su questo gioco è bloccarmi mi dà fastidio qua raga qua venite qua prende iure le finite si iure vieni qua dino ma come siamo presi eh una chiave che devi fare il dino dai dai un bel like tanta di vita in total vittorio e nikiripa un euro grazie mille si stavano sotto si e mo ci va ma ma l'avevo detto guarda mo ci trovi qualcosa ti l'ho detto anche prima jbmods grazie mille benvenuto tra gli sponsor sinceramente pensavo di aver ritrovato i reggings vi giuro ragazzi ero convinto che contro di noi davanti a noi ragazzi davanti a noi merda dai raga dai raga dobbiamo pushare no 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 non mi rompe il cazzo ma che no 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 dai ritato ritato col cecchino dai raga dai datemi una mano su ho finito i materiali eh arrivo porca dammi ragazzi dammi ragazzi ok ok da dietro ma porca soccola mi ammazzano ragazzi mi ammazzano mi ammazzano ma chi sto sti coglioni che mi ammazzano da per terra da jure da jure eh vabbè da dietro ma ce li guardi guarda guardami destra uno sta pure qua dentro checco uno sta anche qua dentro ammazza quello per terra questi 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 erano scherzi questi erano scherzi questi erano scherzi no no si si ci stavano ammazzando subito per terra questi sono scarsi questo è proprio mancanza mancanza di rispetto si abbiamo fatto un fight a me mi è arrivata da dietro una botta bim fine ho visto mister simo un euro matteo un euro grazie mille poi il game benvenuto tra gli sponsor questo è non saper giocare ma poi killer casi è pure uno sponsor killer casi siete schiarsi i mortacci vostra perché non c'è niente da fare vabbè dai so concetti almeno quelli all'inizio ci potevano ammassare tutti hai visto quelli all'inizio che ci hanno abbattuto quelli hanno giocato bene perché non ci hanno preso per terra è stato bravissimo quello è stato massimo rispetto giocare come hanno giocato loro un po' nì cioè lo puoi fare con un server un po' così ma un po' nì capito poi vabbè che ci abbiano fatto il culo perché eravamo un fight senza vita senza un ca va bene tutto però ho detto vabbè 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 ma se push è un team forte ragazzi si si ma non lo vedi come push guarda che roba ciao belli non ci credo che li vincono contro il sesso è G1 non ci credo che vincono non ci credo si 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 guarda un po' smilso vai a vai a la punizione divina la punizione divina ragazzi guarda guarda tutti giù stanno no vabbè doppia bomba però diciamo la verità ci hanno avuto solo culo contro noi un po' si adesso ha due team no però c'è uno di loro che comunque è forte devo essere quello che ho ucciso eh coso lo stavo guardando anch'io killer casi killer casi non sei male cioè hai il team che gioca male però tu sei forte cazzo killer casi e ai G1 c'è stata una piana bella smoncolata ma sono altri G1 si quanti cazzo di questi in c'è G1 questi sono i zibrogia no no smilso è morto eh smilso è morto io l'ho visto eh l'hanno crepato i zibrogia è uno sponsor si si lo ricordo no no ma è bravo guarda lui è bravissimo solamente non si gioca così cioè nel senso il suo team magari non faccia non lo so questi cazzi giocando come vi pare te gab 50 euro ma dove arriva la nella scheda community zio nella scheda community vai nel mio canale community e arriva là la password se sei sponsor però ho capito sono stati molto più rispettosi quelli all'inizio che loro secondo me per me no ma lui uno ci poteva uno ci poteva crepare uno ci poteva crepare a tutti regà eric corradini bella zi no no ma ripeto siamo stati sfortunati però marco de luca 2 euro bella zi a me mi è arrivato un colpo ragazzi mi è arrivato un colpo sulla schiena di magnum credo boom finito non me di pompa non sono riuscito a fare nient'altro che dico guarda che fortuna ci sta lassù eh ma non so quanto riescano marco brunello benvenuto agli sponsor grazie mille bellino glisei 8 9 t i c h r 6 s benvenuto agli sponsor però non è male quell'altro team l'ho detto il comportamento del team era sbagliato cioè uccidere quelli per terra quando gli altri ancora son vivi per dire no però lui era forte cazzo l'ho detto era sei bravo sei bravo sei bravo si vede quando vedi uno che consumisce a rossi quello da cester mi sa che qui sti davanti secondo me sono tipo i reggae qualcosa del genere no ma che no no guarda che roba come no dici avrebbero già fatto i palazzi avrebbero già fatto si poi giocano tutti stanno a giocare tutti insieme quindi no effettivamente non sono loro infatti hc hc oh li avete fatta a buttarlo giù non è che ci voleva tanto e che chiazzo i tz da brucia è morto tu madre lagga è morto la chimera lo conosco morto ok ciao la chimera perché emilio è meglio emilio sei troppo forte dai un'altra cosa un'altra cosa che ci tengo a dire a precisare è che comunque alcuni si buttano in posti isolati e alcuni ovviamente vabbè si buttano in posti no no ma guarda io ti dico guarda wizard l'ha sempre detto che loro si buttano in posti isolati no no ma pure possiamo fargli nomi non è un problema ma l'hanno proprio detto l'hanno proprio detto mica non lo voglio dire no no però l'hanno detto è vero noi se buttiamo in posti c'è invece chi si butta isolato è vero assolutamente sono stili di gioco Marco Brunello benvenuto dagli sponsor Glee ok già l'ho letto perfetto cazzarola vedi che stupro è bravo è così veloce ok a me mi sembra che i G1 sono stati tolti dalla partita si hanno perso è smesso io l'ho visto morire è una ZT sera bomber bella zi tra l'altro fatemi vedere qualche donazione Antonio Antonio è l'ultimo da aver donato super lore un euro caciccio sui miei amici Ruggero bella Gioel un euro caciccio io sono sponsor mi chiamo Gioel Cardenas però adesso sono con un altro account come devo fare eh zio come ti fa Marco Bax94 4 euro bella ciccio continua così grazie per intrattenermi e farmi diventire sembra poco ma fai tanto per me grazie mille buona serata ma grazie mille a te Luke436 ciccio sei un grande grazie mille Matteo un euro grande ciccio grazie mille e ciccio 3 euro caciccio sei un grande ti voglio bene come mai non hai letto le altre donazioni con ragazzi ma non vi leggo più perché voi pensate di fare i complotti le cose non vi leggo più non donate più voi due non donate più non vi leggo più perché sembra che uno ce l'ha con voi quando in realtà io prima leggo le super chat appena ho tempo leggo le donazioni ma voi subito fai i complotti quindi i complottisti lasciamoli perdere marco deluca un euro nzat sera bomber bella casi due euro mi dispiace tvb ma che ma tranquillo casi ma sti cazzi marco deluca due euro giovanni russo due euro mi saluti prego bella zio l'unica cosa che vi chiedo se qualsiasi voi abbattete uno a meno che non ci sia l'opportunità di farlo evitate di ammazzarlo cioè come ti posso dire oddio ma poi bisogna vedere anche dalla loro parte quindi no giocate mi cazzo vi pare cioè dipende anche dalla loro parte io non l'avrei fatto però no no ma magari erano talmente tanto lontani e ora ho abbattuto che loro non avevano problemi ad ammazzarmi capito quello che ti voglio dire quindi dipende la prima esatto la prima squadra ci ha rispettato tantissimo e questo c'è da dirlo ragazzi ci ha rispettato in una maniera imbarazzante quei quattro ragazzi quelli sono veramente da incorniciare ci hanno rispettato tantissimo e forse anche troppo devo essere sincero perché credo che qualcuno io gli avrei sparato cioè devo essere sincero al posto di quello là l'avrei avrei ammazzato comunque però perché sapevo che poi sarebbe uscito o sarebbe venuto contro di me hai capito no oddio guarda panico panico ma che panico emilio che cazzo perché emilio è meglio domenico come faccio a giocare ciccio se sei sponsor puoi farlo no no c'è simon si buono 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 comunque io vedo diverse persone brave io vedo diverse persone brave giocare oh dio blade runner già l'ho visto da qualche parte lol bella bella poi mi piace anche guardarle le partite devo essere sincero mi piace anche guardarle e ci capita però sono partite non finisce subito la partita bravo ma sono tutti a pinnacoli e ci capita spesso purtroppo di guardarle sì anche è vero che siamo veramente sfigati noi ma va bene va bene sti cazzi andiamo in una parte isolata vedi david un euro bella zi noi non andiamo in una parte isolata perché a noi ci piace più nel fight ci piace lo so ma è rischioso all'inizio eh ma che devi fa capito che questo è un gioco di sopravvivenza quindi tu vai in giro a cercare l'armi migliore e poi vai affaitato però in realtà secondo me secondo me ripeto se dovrebbe fare così è così il gioco in teoria è così il gioco david santa bella crazy christian benvenuto dagli sponsor lorenzo delia benvenuto dagli sponsor grazie mille ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi va alla live link in descrizione per scaricare fortnite gratuitamente tra l'altro ah però non sono in safe uh c'è la deltaplano non vedete quella è andata non sono tutti là sopra non ho tripla cecchinata in contemporanea vogliono tutte e tre secondo me fanno un volo sto qua beh la sua non c'è un pochino bel preparato credo che questa gente sia scusa da non darsi da lì guarda come sta torna qua e eccolo ecco vabbè dai madonna cerchi tu allora che poi sapete qual è il problema ragazzi è che noi stando in live se perdiamo si vede di più no si vede di più i G1 sono morti però loro non gli dice niente nessuno capito quello che ti voglio dire poi non so se stanno in live credo di sì però però capito è differente credo capito perché noi dicono è quanto siete scarsi bla 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 blibli blibli ciccio merda e questo è però ripeto ripeto vabbè ma loro loro vincono Emilio vinci cioè sta partita se i G8 non ci stanno noi non ci stiamo vincono vincono i G1 scusa G8 eh vabbè allora ci stanno i G1 perché non ci possono stare i G8 no ho capito sono un'altra categoria poi di più uno ci chiamiamo noi siamo la compagnia noi siamo la compagnia dell'anello punto e basta allora ci ha eh b b b b b b b b guarda che comunque se metteranno mai un vulcano nella mappa bisogna far cadere che cogiure è di trama eh sì però proprio Emilio che c'ha sto cazzo terrazzo telecomandato che non vedo niente porca miseria che schifo dovrebbero fixarla come me lo faranno non ci vuole tanto farmi seguire il rad almeno fammi cambiare personaggio eh no quello no perché non è la tua squadra guarda che belle queste scale raga oh bellissime sono stupende Emilio se stai a vedere la live vedi che fa qualche cosa mortacci tua oh quel cappellino almeno ci fa vedere il controller eh infatti basta non più la scala che cazzo su facci vedere qualche cosa eh qualcosa hai 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 mixato tra cinque minuti ci sente eh sì sì certo certo te sei incastonato addio addio amici addio addio quello gli sta dando no ma gli sta dando filo da torcere morirà male purtroppo eh però domenico franco sono sponsor ma non so come fare tramite play 4 l'ho detto prima franchetto nz attivo un euro grazie a me boom perché bello Emilio bello Emilio bello Emilio bravi 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 mi gusta mi gusta beccate come danno esperienze sempre privati ma chi è che ha fatto la passione a 5 allora ci siamo eh prima prima allora sto per ridare la password eh vediamo voglio vedere che password hai scelto molto bella bella mi piace hai visto è bellissima è il tempo passato di pass 3 ok l'ho data vai comunicate pure noi ci siamo eh nz att nz att grazie mille eh vegas life due euro ciao ci sono un tuo fan mi saluti vengo da noi bello zio nz att grazie mille lonnie the wolf vengono tra gli sponsor si 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 oh c'è 27 dai 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 più di 60 tu dai oh no dai eh dai puntiamo a 100 dai raga quanti sei avrono questo? 80 per il momento no se metti in pare che non puoi entra più l'ho cadenziata no no possono possono? si 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 guardate gab dice se lo aggiungi alla lavagna gab no gab quello che ha donato 50 euro non ce l'ho accettata per eh dopo 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 ricordatemelo ragazzi 88 come me per due te lo segni per favore just si hai qualcosa stonda via vai 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 stonda via stonda via ciao bella 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 saluta ma solida bella 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 saluta ma solida te voglio mandare bella raga bella raga eeeh che dite voi una parte isolata una pasta una pasta ma io andrei là dai si si sono d'accordo con lui è il leader che ride questo qua che testo è arrivato te gab 2 euro grazie mille si buttano qua o o a burgo esatto guarda come tutti cambiano direzione guarda eh no per fortuna no c'è 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 ma raga incrociate le dita perchè secondo me sono loro prenderemo eh ma guarda quello come l'ha no no alla skin del cavaliere capirai in casa unito in casa io si sto andando sotto anch'io son sotto c'è un cazzo non c'è un cazzo ma dai guarda ma dai guarda non so dove Jure dalla casa fuori si ok grazie al cazzo che cazzo mi ha fatto malissimo mi ricordo io ho capito non so dove sono c'è uno che lagga troppo si sta laggando come un cazzo no no uno l'ho buttuto ma lagga troppo uno pure davanti a noi 15 un altro team ragazzi io non ho niente niente per poter sparare da lontano niente sono due gli abbattuti eh dai tre abbattuti dai in realtà non lo dovevo fare mi scusi no 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 ma no no là si non stavamo cioè là è giusto capito no è vabbè venite ragazzi ma come ha fatto a farmi danno dai buttati sta laggando proprio il gioco che cazzo è dove ne hai giro sono quel fight pompa ok da questi pende scendini un cazzo un cazzo un cazzo sai che significa niente niente vabbè però aspetta che non è tutto loot no 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 lootate bene io casa non l'ho lootata bene eh la casa checco però se tu sai che io sto qua e dobbiamo lootare è inutile che tu vieni qua eh c'è qua c'è un pompa due due medikit qua ragazzi qua c'è la pistola silenziata la volete no voglio un m4 se c'è 2 euro riccardo s 2 euro nz t 1 euro grazie mille dove sto vendaci una cassa qua ah ok 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 ho trovato la r ho trovato pende ah ho uno cildino checco e anche checco tieni ho anche il medikit checco ah primo me lo spazzo si si tutto loot cioè abbiamo lootato tutto si vuol che penso si volete un cittino un cuglio di acaccia blu no se c'hai tu tutto quanto dirlo non è un problema no perché c'ho un vino viola quello possiamo andare te gab dopo ti aggiungo zio va bene l'ho lo game 2 euro ma come si fa a essere sponsor trovi il link in descrizione o vai vicino al tasto iscriviti del mio canale è là dove si avere sponsorizza comunque possiamo trovarci qualcuno che ci viene da dietro eh volendo al solito costa 4 euro e 49 e 4 euro e 99 al metro avete aperto voi qua cassa no quindi erano loro secondo me qualcun altro un po' strano comunque ricordatevi che se troviamo un team che se troviamo un team dobbiamo cercare di costruire ragazzi perché se ci vanno sopra ci fanno il bucio del culo it's leon grazie mille it's leon nzt2 euro grazie mille benvenuto agli sponsor it's leon ma cerchiamo di ruotare tante lene tanti mattoni così poi lo diamo agli altri esatto oh no oh scildini qua a sinistra ragazzi oh fuggile a pompa questo dipendo sulle ragazze a blu chi lo vuole andammelo a me dai dentro ho lasciato una ballerina lo faccio per voi ci la passa e pubblica lo faccio per voi ciccio la passa e pubblica che ci entra pubblica magari sbagliata a mettere ah mi sa si mi sa che l'ho sbagliata si e vabbè oh pazienza sono entrati sono contento uguale mi dispiace mi sono sbagliato vabbè ma ne saranno entrati quanti una ventina in più kainiz benvenuto agli sponsor vabbè sono contento uguale sono sempre fan quindi a me va bene c4 comunque grazie mille lo faccio per voi ma sono sbagliato grazie 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 però se mi cerchi a fare sempre atta che lo faccio per voi scrivi subito quello che vuoi dire sparano da dietro 75 l'ho visto io vabbè 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 come ci arrivo io andiamo in safe no andiamo in safe se proprio dobbiamo costruire questi ci attaccano questi ci attaccano ma vuoi che giuro un'altra volta e giocate basta se magari non mi si buggano le armi no ci avrebbero già attaccato se erano il giro ragazzi io non ho abbastanzarmi assolutamente no allora dobbiamo decidere se attaccare o seppure no c'è l'hanno ahhh da dietro ma chi l'ha visto ma sempre da dietro mi devono arrivare ma che cazzo l'ha visto battuto uno raga dovrebbe stare tipo sopra di me qualcosa del genere dai due contro uno siete venite qua dai mi potete dire assù mi potete dire assù pure a me velocemente velocemente no no non è quello è pieno di team per quello ti dico velocemente copri 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 ho band ce l'ho avete i shieldini io quelli ragazzi vi giuro non li ho visti ragazzi cioè io capisco tutto umanamente tutto quello che vi pare ma io li ho visti quello che è saltato per spararti avete del band io sono solo per me io ho preso semplicemente quattro persone che mi hanno rotto il culo poi materiali io ho finito tutto ragazzi io pompa qualcosa se vuoi ragazzi medikit shieldini cazzate varie ragazzi davanti a noi sono tutti morti le cose sono due o proviamo o se ne andiamo ma io andrei in safe eh ma sotto là è pieno di roba vogliamo andare a vedere la facciamo io non andrei non lo so dai decidiamo tutti insieme per me dobbiamo andare andiamo io ho fatto 30 facciamo 31 poi non mi dite che non ho dato la libertà te decide pochissimi materiali io eh infatti io sto raccogliendo cosa da facendo cosa da facendo vedrai vado a vederlo davanti c'è stanno altri lo vedi lo vedi lo vedi no no ma io sapevo che c'erano ho battuto la raga non ho le armi cristo il signore ma io lo vorrei ammazzare questo da me da me dove eh raga però non mi cambia le armi a me ok ragazzi io vi giuro non mi cambia le armi a me eh a te non a me io sto sempre con le armi baggate sempre 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 ok pure questo vedi qua è pieno di roba vedi si andiamo eh dopo potete darmi un po' di colpi del cieco si 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 tutto quello che vuoi raga guarda la chat l'ha visto non mi cambiava le armi ragazzi non mi cambiava io sono stato tre minuti con le armi baggate raga tre minuti che devo fa io per sbaggarlo devo ripremere attività tra parte abbiamo fatto bene ma si ma che ecco ma per forza ma io sono diventato full blu adesso di non c'ho shield non ho niente quindi significa appena troviamo un team un po' forti io vado giù però ho due band una band e me la tiro dopo io c'ho nove band ah vabbè cinque no no basta per il momento qualche materiale ce l'ho proprio qualcosa c'ho ho 300 di legno a sinistra se devi bugare l'arma se non muoio tanto che a me se buga ogni 2x3 quindi questo è un problema sai ecco ma no come fai a fare un fight se non switchi l'arma in questo gioco devi essere più veloce della luce no ma poi non ti deve dare problemi lo switch dell'arma più che altro comunque si 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 ragazzi questo perché sono bravi vieni qua vieni qua va bene va bene va bene va bene passiamo per qua a destra poi ci sta un altro fortino a 339 wizard io non mi metterei a sinistra nostra ragazzi 300 ci pushano ci pushano e vabbè ma non è vero mai dai mi puoi rianimare mi puoi rianimare c'è qualche secondo curatelo qualcuno spari qualcuno spari che ci stanno pusha davanti davanti proprio occhia cecchini due lontani uno sta venendo si si eccolo niente da dove rianimo rianimo io rianimo 5 2 3 4 4 c'è un altro qua sopra no è troppo sopra ah eh ragazzi ho provato vai yure vai yure fatti i cazzi tuoi io sto qua eh guarda se vieni qua da me gliela fai pure eh ecco vieni qua vai vai pure lui pure lui va bene pure lui pure lui va bene lo sta rianimando un altro boni boni ce l'hai dietro al culo non t'ha visto sto qua sopra mi curo eh mi curo yure riesci da me no no aspetta zi è una situazione molto anzi di merda no yure 16 secondi ragazzi guarda qua yure 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 guarda qua vieni qua vieni qua vieni qua 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 no cura costruisci la costruisci la cazzo vai via vai via non ce l'ho visto non ce l'ho visto sicuro stanno qua davanti uno al nord est nord est ok wizard ha battuto come costruisci ragazzi l'ho buttato io ho buttato wizard bravo g1 zatman prontissimo io ho battuto wizard eh io ragazzi non lo dico però vai 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 vaffanculo via c'è un'altra densa in faccia niente vabbè l'avete bene l'avete bene il calcio si ah è rimasto il bastardo raga non ria raga vai 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 hai pure il tato dai vedi cosa sta facendo sta correndo sta facendo la jump no 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 ti sta mirando ok sta facendo il ponte per stupirciare la jump ecco qua l'hai inghiottiti l'inghiottiti ok vai 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 via via qua l'abbiamo l'abbiamo rotti il g1 ad esempio è stato difficile è stato difficile mi pensi che sei contro tre bravo vai mirko no come faccio ragazzi g1 zatman li vedo li vedo guarda eccoli là sono gli ultimi tre probabil uno due secondo me pure secondo me c'era un altro uno due tre uno due tre l'ho visto io eh niente eh già vabbè sono un bel fight non ho neanche i materiali 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 ragazzi sono già andati? si stanno cercando no non ti hanno visto non sparano al cazzo eccolo là non sappiamo chi sono però vabbè ti sei chiuso male eh che te fa ma stavo senza niente stavo senza niente va bene va bene bella seba allora fatemi vedere un po' bella parte qua ad esempio il fight è stato molto più difficile bella che iniz ci la passa possiamo vedere anche noi in un sponsor it's leone due euro rimaneteci mi dice che la passa dopo ruvalanza hd benvenuto agli sponsor riccardo sordini due euro c'è gioccio posso dire il mio amico stan vegas life grazie mille posso usare l'iguana di facchi e ghilifa va bene renato bartolomei benvenuto agli sponsor Oneil un euro valerio pastore due euro bella ci saluto il mio amico fabio valere e lorenzo verio benvenuto agli sponsor allora mettiamo il matchmaking io potevo 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 comportarmi in maniera differente qua però mi ha andato detto di fare così questo significa comunque noi che siamo scarsi in culo no no assolutamente ok l'ho messa magari adesso non mi sbaglio pass 4 ok ok l'ho messa se per favore scrivete ma devi aggiungere la lavagnetta mi cosa si chiamano come eh è degab mi sa è just come proprio degab proprio così mi ha scritto TH D spazio ok D spazio 47 muoviti prima eravamo 80 subito no 74 forse la gente ha cominciato a fare team no no ma ci sta ci sta molto piaciuta sta partita però si si ma vabbè questa è stata bella 35.000 grazie mille io me lo fa una doccia grazie al tuo sacrificio siamo sopravvissuti a Dusty Depot poi siamo morti dopo però siamo ancora su Dusty Depot e poi nessuno di là aveva un gecchino con due di no io no un cazzo che non mi prende le armi vabbè però il fatto che la dance non ha fatto ballare colunque l'ho tirata vabbè è un po' strano mi hai cercato girare i pugni aspetta vediamo un po' eh no qua onail un euro valerio pastore due erbile cimiteri mi fa valere bella lorenzo deriu benvenuto tra gli sponsor io andrei lì si si sperando che non ci arrivano otto team io potevo giocarmi in maniera differente ma non avevo i materiali ragazzi mannaggia abbiamo giocato ben cazzo potevo giocarlo in maniera differente vabbè pazienza perché mi sono cacato sotto e non va bene chi è che c'era ancora dello scuro io no io c'avevo 75 di vita boom finito avevo finito pure i materiali no ma quello è differente quello è differente te lo garantisco perché alla fine non stai a giocare esatto bravissimo quello è come giocare normale allora li vedo tra la sinistra però non vengono da noi comprate non d'accordo con che è questo non male mi dai raffica almeno non l'M4 no l'M4 lo tengo io è vero che quando dovrei avere fucile a mano compagno io ho uno shieldino 4 shieldini ah no questo vuole mi hai fatto praticamente cagare in mano sei mic di qua a me a me a me dai veloci ragazzi dobbiamo essere velocissimi io vado in casa voi controllate sotto ok io andrei in galleria sto andando in galleria sotto intendevo galleria galleria sotto un galleria arrivo io pompa single la baria qua c'è un cazzo incredibile chill 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 buono la data assurda è nata beh decisamente togliere la prima il mio M4 vado con loro io ora no no stiamo 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 la fa questo la casa non si muove te lo dico andiamo andiamo venite qua poi quando appena appena andiamo e infatti volevo andare a vedere subito un fattoria io anche perché qualche arma decente ce l'ho niente di che c'ho pure il mirino red dot si si vai vai intanto vado un pochino più avanti gioele cancellara benvenuto e i due bomber sul tubo benvenuto anzi avete rifatto la sponso sono abbastanza sicuro bello ragazzi benvenuti di nuovo io sole per il momento non vedo nessuno occhi aperti attenti qui non è davanti a me 285 wait 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 vieni qua su ho lasciato tre corpi qua cioè hai capito quello no ragazzi io non vorrei perdere da me abbattuto cosa l'85 l'astronauta e vabbè l'abbiamo visto cazzo ho finito i materiali con l'ultimo non so dov'è abbattere l'ultimo da abbattere no no ma questi mondavano ammazzati non è che potevamo fare niente vieni qua al fight dai ti massi cazzo dei materiali ragazzi eh devi lootami eh raga non mi apre i materiali ma mio dio che gioco io stavo vedando col bomba in mezzo a nulla io eh tu io non so assolutamente dove stanno gli altri vede uno sarà scappato che ne so faccio le granate prendo le pozzette magari è un team da tre eh io no no non hai capito magari era un team da tre ah vicino insieme tu dici adesso due euro per la c come faccio in internet il tuo server l'ho detto nella scheda community se sei sponsor Matteo Calvagna benvenuto agli sponsor it's Leon due euro come vado la passa c non ci ho capito niente nel mio nel mio canale in alto dove c'è la sezione video messaggi dove dove Mirko non so idea ah eccoli 300 300 300 arriva uno con lanciarazzi ragazzi 300 visto eh la madonna uno è stato tre volte ah vai io colpito eh vabbè ah sono due team sono due team ho finito quasi tutto muoviti 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 ecco vai via 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 tranquillo come se è bene bene tieni tieni a cazzo se la su arrivo 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 no sto io qua tieni tieni no ce l'avevo quella va bene io attento vedo che siamo finiti in un panino di nuovo occhio raga c'è un altro cecchino eh questo è quello solitario di prima nord ovest si dentro ai fortini ah ok mi ha avuto anche io andiamoci si via 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 cazzo ce la vedo da sparare qua due raga io non ho materiale non ho materiali io ho vendi certi materiali è finito poi ho finito i materiali addio che cazzo ragazzo andiamo mentre ce ne andiamo quando prendi da un albero dieci quant'è eh vabbè meno di nulla chi c'è bozza perché ci facevano perdere tempo quelli sono stati inglobati alla safe però invece a noi sapessi come ci trombano tra poco costruitevi dietro costruitevi dietro date una bozza di un muro dietro grazie tu l'hai dentro si no vabbè poi fate un fortino eh c'hai capito che li dobbiamo cercare di rispingere la mamma arriva una botta dai 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 basta 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 non li vedo dove e quindi ci hanno costruito mi sembra no no cazzo sì 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 lago 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 mi vedo proprio ah eccoli sì 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 andiamo 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 venite lago 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 venite 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 con me uno l'hittato stanno qua eh uno giù ah vaffanculo vaffanculo va sì assolutamente ma senza parlarne eh dobbiamo prendere la roba eh lo so io non c'ho materiale dovete prendere quella roba ragazzi andate voi due ragazzi adesso io non ho più colpi eh io fio tutto un'altra volta madonna ste partite ragazzi non posso post basta giura stanno qua sotto stanno la roba cassa qua prendilo non a noi non a noi non a noi vecchino eh no ce l'ho un altro test capito eh tu best lanciarazzi ho visto bella bella dai avessimo trovato via lanciarazzi queste tre partite che abbiamo fatto ragazzi avete materiali veniamo che scavalchiamo qua veniti vieni posso fare due scale stanno sotto sta montagna ragazzi se riusciamo andargli sopra non vi dico che abbiamo vinto ma ho un medic per chi serve per me però io sono messo meglio ok dai ci sto come servono i medici ho un cecchino viola di quelli che eh raga secondo me sono loro dai eh aspetta sono io con Mirko ma da solo se fai da qua davanti qua davanti raga ragazzi avete per favore colpi medi no vieni ho 270 oh qua c'è una cassa non l'hai vista minigun vedete io sto guardando tutto tranne adesso quello mi medico mi medico ok mi lascio i miei di qua 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 dai 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 la merda l'ha vista io anche i cecchini colpito il cecchino lasciati dietro di te oh oh vedo 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 la cazza però attenti dietro attenti dietro ragazzi qua ci sono degli alberi che voglio prendere meri mi servono eh 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 ne posso dare qualcun altro piccoli piccoli ce l'avete qua che ecco qua che ecco qua che ecco ragazzi qua c'è gente che sta uscendo ragazzi eh sì sì vuoi lancerati qua raga 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 troppo lontani andiamo dai dobbiamo attaccare ragazzi ok sono usciti sono vicino a casa attivegno porca merda dai dobbiamo andare dai dai non ho materiali assolutamente non ho materiali finiti aiuto a me dietro dalla safe 62 io ho fatto ragazzi senza materiali la checola mi puoi rianimare secondo me a sinistra soul e si si ce la fa ce la fa perché mi sta guardando a me ehi ti sta medicando anche lui a sinistra vai vai soul vai no soul lente fermo no no continua va bene va bene va bene va bene va bene no ma non è possibile stare senza materiali non gliela faccio come cazzo faccio a sinistra ah vabbè dai dai va bene comunque sei rimasto male e vabbè hai fatto bene hai fatto bene hai fatto bene ma io non capisco come faccio a rimanere senza materiali è una cosa che non capisco lorenzo derio benvenuto dagli sponsor joele 2 euro dobertubo ok ok matteo calvagna benvenuto dagli sponsor massimiliano del maestro benvenuto dagli sponsor samumalo 2 euro ciccio che cazzo ha messo dagli sponsor samumalo 5 euro ciccio stasera dono solo per salutarti al prossimo mi puoi salutare per favore ti voglio chiedere quando è il tuo prossimo firmacopio e dove adesso non lo so a zio mi devo operare non voglio a te pupa banane 5 euro bella ciccio come stai ultimamente ma ce l'hai ancora anche domani server un saluto si ragazzi domani gioco con full cioè con tutti quanti mastino x benvenuto dagli sponsor tommy awok 2 euro bella ciccio sei un grande salutesti me e giacomo ciao ragazzi sonia silvestrini 2 euro mi saluti a me il mio amico lorenzo sei un grande bella nigga boy 1 euro e city world 1 euro grazie mille benvenuto dagli sponsor vediamo un po' se c'è qualche donazione simox gameplay bella ciccio 1 euro michele ado 1 euro giochiamo insieme sudix 5 euro grazie mille il tuo dietologo 1 euro ciccio ti voglio bene ma sei grosso come un pianeta non è vero prima ero grosso come un pianeta ma lascialo io lo leggo ma guarda mi potevo fermare ma non mi son fermato ma non mi interessa andonio 1 euro ciccio perché mi hai bloccato su instagram puoi controllare sono controlla può essere perché ti sei spammato o qualsiasi altra cosa quindi non è che blocco a cazzo no tu madre lagga eri il mio preferito eri il mio preferito oh tutti i reken sminca bella partita però poteva andare meglio ma si assolutamente allora zio io mi sto ritrovando senza materiali sto giocando di un male che tu non hai idea o perché involontariamente sto giocando troppo velocemente hai capito come troppo veloci siamo troppo veloci secondo me quindi mo ci facciamo un game un po' più tranquillo si adesso ci facciamo un game un pochino più tranquillo perché siamo a mezzo mondo e poi andiamo no ma lo capisci da solo che per due sempre senza materiali senza materiali e qui c'è qualcosa che non va ma si anche perché quando per esempio prendiamo in fattoria noi abbiamo costruito la pure non è che ci stava tanto da lutare tipo alberi no no infatti no no dobbiamo stare un pochino più tranquilli dai un po' meno meno voglia di fare 500 kill capito come anche perché anche perché io ne ho fatte tre non è che ne ho fatte tante quindi io ho uno capito che hanno rialzato ho fatto certe pompate io ho tirato a questi però vorrei io penso comunque i G1 pure stavano giocando sono stati G1 contro il mio 1 ok Reckens ha fatto una strage c'ha 9 kill sembra anche giusto è rimasto Reckens versus e cazzo ne so mi sa di no no mi sa ci sta pure wizard ma mi dite una cosa ma mi dite una cosa come fanno a trovare le armi belle cioè noi non troviamo niente perché noi vanno in posti isolati che ne so per esempio la tavola del censo loro vanno in culo al mondo per trovare queste cose ed è giusto che sia così ma invece mi vogliono trovare oh dio grandi bravi ed è giusto che sia così mi cioè no no per carità per carità io noi le armi non le troviamo ragazzi io massimo sciuto è stato un cicchino è giusto che sia così allora pass 5 ok l'ho messa gli spawns vai 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 ok possiamo andare sì 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 ok mettiamo pronto ufficiale c'è ne ti metto un down out 56 vabbè ma ci sta 602 buonanotte 102 ci sta anche mi nonna dentro la troia vengono a casa a fare i dolci no ma è sempre così ragazzi dopo un po' va tutto smarmellamento ci sta perché la gente esagera magari a dare le password da qualche parte eh eh che cassa non so vediamo magari mostrano tutti qua no poi c'erano subito a G1 sicuro guarda sicuro ma già ma già sponano c'è gente forse sì vedo gente che arriva a sinistra con le rotte sì beh io vado qua queste cose qui noi hanno visto solo uno andare là sì vedi revolver blu niente di che vedi pistola bianca pistola bianca con passing over multi colpo bianco ragazzi quanto cazzo siamo fortunati eh M4 verde ma che l'ho blu io qui ma che l'ho colpo molto più di corto se avete i scildini ditemelo che ho due pozze no io ho uno scildino quanto danno queste deferosterone parecchio no come no ma che dici sono un cavolo danno un vuoto sì vabbè ma non conviene son male raga sarà io c'ho due pistole quindi gg per noi come una pistola viola però è quella aspetta aspetta se è per te diettelo diettelo no 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 l'ho trovato troppo tanto colpo non andiamo qua no più che altro se ne andiamo al cimitero se vessi eh no ormai sto full io 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 no no non lasciarmelo là non ti preoccupare io l'ho preso volevo andare al cimitero ragazzi eh andiamo eh almeno M4 con 100 colpi già non c'è roba tieni guarda figa 3 aspetta mi non corre troppo aspetta no ma voglio prendere la posizione cioè capito adesso voglio prendere la posizione cioè se troviamo qualcuno almeno dobbiamo essere noi che già stiamo dentro qua sennò ok ok allora sì tre colpi bianco cristo santissimo il signore dio ricorda tanto quella la eh bravo si si ma io l'ho subito detto nel mio video eh un po' ecco una cassa ah M4 e scelte grande M4 volete M4 verde si aspetta un secondo aspetta luto pure qua hand pompa bianco tieni oh guarda che ho trovato Gesù Giuseppe e Maria volete un po' qua ragazzi qua c'è un sacco di roba per voi se volete io io qua qua questa cosa però io non lo andiamo qua io raga non ho mai avuto un lutto del genere fino adesso ah ci abbiamo pure la safe abbastanza buona sti chiasi ma come andiamo in fight almeno un po' preparati beh rispetto a prima è oro colato rispetto a prima eh granate io do prendo rispetto a prima mi sono fatta mettere la merda però ok qua 6 granate lascio qua la casa andiamo a lutare si è certo g1 black hanno eliminato hanno eliminato un team il g1 lutate la casa io vado un pochino più avanti vengo con te no no ma più avanti intendo qua ok guarda guarda lo scudo e la vita guarda qua io ho un'altra shield grande ragazzi per me la prendo e allora sai che c'è tiè ho buttato un pompa verde qua quello automatico mi riferiscono dall'alto che non c'è più si effettivamente stiamo messi da dio adesso ragazzi occhio che qua da noi c'è parco pacifico ok ok così se dovrebbe giudicare eh nel senso è vero dico andare subito in azione non hai tutti i torti però oh no per carità purtroppo i g1 ancora stanno in piedi no non credo sia lutto però no no non è lutto shieldini shieldini qua sopra ragazzi potete stoccare la puzza grande piccolini qua sopra sopra il tetto proprio te l'ho buttati te l'ho buttati te li sto buttando te li sto buttando sotto tu hai le mie 4 verde sotto sotto qua guarda te l'ho buttati qua dove sto io ok arrivo è lì qua 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 ok granate 8 granate e 10 io 6 vogliamo provare a parco pacifico vediamo un po' andiamo se vi serve qualche cosa dite le mie 4 ce l'abbiamo tutte si si io ce l'ho blu no in realtà no ma possibile che non sia loot parco pacifico no no ragazzi non è non è loot la cassa però è lì aperta non è loot oh non è loot fate come cazzo vi pare ragazzi non è loot ho capito però non è loot ma è vero il kit no perché c'ho una pozza posso prenderli io tolgo le bende però ne ho 15 io ho medikit no no tieni le bende tieni le bende sono essenziali anche le bende un'altra pozione grande no slurp prendi medikit che co qua 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 raga io dico che qualcuno potremmo potremmo trovarci no ma io ho detto che comunque dove dove sono io sto arrivando bro sto arrivando sto correndo una cifra sono io lancio granate io ho sopra la cassa cassa c'hanno allora stanno trovando dove sto sotto questa casa dove stanno andando jure sopra sopra al tetto sopra al tetto arrivano bella 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 oh fallo ragazzi venite qua ok servono un po' di medi però aspetta 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 vado a prendere la pozza vabbè a me non serve medi io medi tu metto il pollo tanto tieni lascio qualche granate raga ottimo vieni jure dai niente è diventato c'è qua le grade stanno qua ecco qua qua ok ok grazie non vi parlo a rontarti la calcola stavo seguendo Mirko niente i g1 continuano a non morire l'anima di morteacci loro un'altra pozza basta e più shieldini no vabbè no aspetta la pozza la posso anche stoccare io altra pozza niente niente non posso stoccarla vabbè poi mi devo una caccione e qua ci sono altre cazzo e slurp vabbè vabbè slurp ce l'ho ok vabbè fa niente pozzette vabbè la partita degli shield ma guarda come stiamo da dio cioè manca solo un cecchino io c'ho quello molto quello molto quello del roma oh andrea ida ha fatto quasi esplodere il g1 raggins il g1 raggins è sta giù regà ma dove hai fatto esplodere da mie sto tifando tantissimo c'è bocca di me vabbè vabbè ha donato 100 euro vero anche di più ma che ma quando vai no no lo sapete che nelle live queste qua non donano ah g1 ha tramortito oh uno è morto un g1 è morto bella andrea che l'ha scoppiato vedrò il g1 così qua subito si avvendono dove potranno sta cazzo dobbiamo stare qua sopra? sicuro non qua nel senso non nei paraggi andiamo sopra sotto di noi sotto di noi lancia razzi cecchino arrivano cecchino a te si si vedetevi ragazzi raga occhio eh eccoli eccoli là arrivano missili ma c'è uno è brutto ruvido eh somm'hanno fatto casca sotto uuuh headshot ho fatto sotto ah vole donna peccadura io mi sto scurando eh ok fatto occhio dietro anche ragazzi eh ah infatti non ci arrivano le granate no? no sono qua vicini qua sopra si si sono vicini fanno cecchino ragazzi molto lontano eh è un problema quel cecchino raga c'è due granate ok vento non riesco a chittare il cecchino non capisco eh dentro al fortino quello del cane no no sta là sta là vittato vittato eh servono me vittato vittato eh possiamo anche provare a pusharli secondo me no no per me no dietro dietro da me da me quanti cazzo di team ragazzi aiutate lui aiutate lui a me servono pende io io c'ho tutto quello che te serve qua sotto te ne ho battuto tutti mia no 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 è ancora pieno jure tieni eh eh lo so lo so dobbiamo attaccare quelli ragazzi dobbiamo attaccare quelli quali? questi davanti a noi io vorrei che ci arrivassero da dietro stanno qui eh mi butto faccia da cavia ragazzo sono dobbiamo ritornare sopra subito dobbiamo ritornare subito sopra eh mi servono razzi servono non già razzi prendilo no razzi vabbè razzi tieni 20 ok ottimo qualcuno può stoccarecchie non li vedo non li vedo ragazzi ragazzi stanno facendo io io anche io vini qua vini qua aspetta aspetta ragazzi prenderteli dove scusa non ho capito dove ah sud est vedo uno sud est che sta scappando molto probabilmente 75 stanno facendo il fortino vicino no no non mi si da tre quando si caddeva addosso dove scusate potete ripetere 75 uno 75 e uno a sud est basso cazzo speriamo che non si si ma speriamo che non si chiude là da dietro cioè qua da dietro so cazzi da paura da dietro incredibile si sparano sotto se no sotto si sparano tol coordinate dovete dire coordinate 75 cazzo l'avevo preso avete colpi del cecchino io sto arrivando da te 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 ma che pioggia di meteoro comunque li stanno ridendo la testa ti ha messo la trappola io io bro colpi medi io ne ho pochi eh sol ci sto bravo bravo G1 io quelli sono quel push risorgi su sol dove era dove era il G1 non l'ho non l'ho sentito ok bene bene sono là sotto sicuro spara 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 vai 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 un altro lago lago sotto di noi ragazzi 150 650 650 650 raga ok ok pushano 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 c'è un altro a destra ragazzi jure c'è un altro a destra non so dov'è stanno là giù 105 andiamo ragazzi venite non l'ho hittato mai a terra hittato c'è scusate hittato vinco davanti al pettato dai un attimo bro qualcuno sta succedendo qua mi sa si è dietro dietro di me dietro di me dietro di me dietro di me ragazzi qua dai è sceso sotto è là è là è là è là è là la destra è sceso non so dov'è sta qua sotto sta qua sotto jure dov'è a vederlo si si sto preso le pozzette jure non lo vedo cazzo no neanche io ma qua stava eh oh sono andato ho finito i materiali ragazzi ragazzi occhio dietro a noi eh cioè dietro a noi ce ne potrebbe sta uno che sta ancora a curarsi secondo me bravo ammazzatelo perfetto perfetto dai cazzo sopra ragazzi porco il cazzo mi hanno pushato tutti cosa è che non so dove cazzo sono chiuso andiamo via dai c'avevo il bibitone gigantropico andiamo via 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 io ho finito i materiali ce n'è uno cazzo ho finito i colpi ho finito i colpi ho finito le proprie di cose ma quanto va male stasera eh niente ci ho provato io ora ha battuto smilzo non ho materiali non ho materiali dai che in forza è mezzo morto ma non ne ho idea sta qua da me sta qua da me si eh ho finito i materiali se riesci a pusharlo sotto gli fai male va bene stanno tutte e due là eh tutte e due là tutte e due là vattene solo vattene non è cosa non so se sono dello stesso team no no in teoria no prova andatene sopra vattene sopra va in superiorità superiorità altezza questo è un fido materiale beh merda bella partita bella questo è spettacolo hai visto no che cambia il modo di giocare che se vai a fare quello da un'altra parte io spero che siano nemici questi due dai 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 so eh ma se affido i materiali può giocare con le strutture può giocare no non so non so se sono due può giocare con le strutture nel senso che vuoi giocare con queste strutture eccole lui è lui vai no 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 sono due ma sono due dello stesso team è una cosa che non capisco è scoperto eh cazzo va bene sol no sono due diversi sono due diversi io l'ho detto eh sì sono due diversi sol vantano a qualcuno bravo io ve l'ho detto che erano due diversi sotto sotto qua sotto sta cosa dal via 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 sol via via sol via 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 vai sotto vai proprio sotto 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 a tutto bravo no 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 madonna mia concentra di calmo è un gioco calmo ma senza materiali sto voraccio la partita è stupenda la partita sta là sopra in cima al culo tu puoi stare qua a camperà come una cittini tu non ce l'hai no no niente pompa in mano pompa in mano let's go soltanto non si muovono prova a muoverti un po' vedi se in giro c'è qualcos'altro non lo so no 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 ma sempre in safe stai c'è niente vicino che cazzo copri di qua copri di qua sotto le scale le scale copri di qua sotto le scale vai bravo tanto sei in safe sei in safe è sceso mi sa si si eccolo qui cazzo bravo bravo così bravo shieldini 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 vai arriva basta vai vai sulle scale come va va eh eh son ok non lo so fatti cazzi di voi shieldini dai se c'è l'altro pompa qua sopra di te proprio sopra la tua fottuta capoccia prova a vedere se lo riesci a far casca no 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 fidati se sono solo un culo fallo casca fallo casca sto stronzo aaaah va bene va bene va bene va bene va bene va bene stavi messo una merda zì bravissimo stavi messo troppo una merda dai tanto stavi messo male bravo hai giocato bene hai giocato bene bravo 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 questa è stupenda il gamer 2 euro andrea 1 euro daniele lombardo ben uno tra gli sponsor alex 2 euro bellaci potessi sarebbe il favore livrio 2 euro c la tattica iguana quando la utilizzi massimiliano 1 euro pietrox luis 20 euro grazie mille massimiliano 2 euro per fuori ciccio puoi dire va bene proxi yt grazie mille ben uno tra gli sponsor antonio era l'ultimo che ha donato e antonio è l'ultimo che ha donato ok dai belle partite no no ma stupendi stupendo stupendo questa era difficile nel senso non c'avevi neanche materiale io non mi ricordo come sono morto perché ti ha pushato uno dietro mi pare però hai visto che già buttandosi a fan bagno da un'altra parte cambia proprio il game cioè comunque abbiamo giocato stra bene questa partita bellissima veramente bella l'ho data eh vai bella bella sì sì assolutamente assolutamente poi ancora sta un addio credo in zone ah ma hai giocato molto bene oh adesso non sei ancora morto non sono ancora morto l'altro che non aveva neanche la roba no no ma infatti no 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 ma infatti aveva venditi materiale già aveva ma infatti ma infatti si ha rotto il culo a cancer almeno chi è l'ultimo no ivy ti ha ucciso ivy poi ho il po' in testa che era il pompa blu quello guarda l'unica cosa che noi c'avevamo un cacacazzi che ci è stato dietro tutto al tempo non siamo riusciti a buttaggi che avevamo costruito troppo si era nascosto non si capiva più niente costruite poi quando costruiamo troppo non vediamo più la gente eh eh dovevamo muoverci più da squadra ragazzi invece siamo andati in posto splittati cazzo va bene però bella 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 dove andiamo? eh che cazzo ne so a cogliere le vicocche qua eh ogni o qua qua oh regà oh regà regà la davidi due euro la è più bella di sempre grazie mille bro troppo gentile oh regà non mi è passato ah vabbè mi sa che non l'ho messa sullo sponsor e vabbè mi sono risbagliato sti chazzi che devi fare me sbaglio vabbè sono entrati prima tanto sono gli sponsor quelli che controllano i non sponsor sono pochi che controllano va bene così bella bella partita io non mi ricordo mica come son morto ah si avevo provato a rush avevo provato a rush si mi siete alti quanto la cacca raga stiamo nella merda tutti a sinistra tutti a sinistra tutti a sinistra regà merda ma secondo me sono pure loro porca troia regà mi sa che non è stata una bella idea eh io sono qua seminterrato io vado e qua sono cazze non ho trovato niente il seminterrato qua c'è se ricorda lo so lo so lo so le sento le cazze io ricordo raga uniti perché qua fai messo loro eh va bene non trovo un'arma addio santo una pistola ma siete unito porca troia ah regà non è che ho trovato la roba bianca non è più cristo dio io ho trovato roba bianca roba grigio esatto non ho trovato un pompa non ho trovato mezzo pompa ragazzi mezzo è lontanissima forca io vado a lutare no no devi venire qua e dobbiamo combattere ragazzi se volete qualche arma ce l'ho ma che veduti vogliamo andare a rompere i coglioni per forza zio per forza eeeh sui g1 ragazzi sui g1 ma come fai che c'hanno i cosi guarda tanta fortuna lì uno l'ho buttato giù eh dopo di noi lo prende quel pompa zio sotto di noi eh bravo non sui g1 però eh dietro ce l'abbiamo quelli sui g1 se se uno dietro dove visto è finita cazzo che fate sto arrivando jure no no pensiamo a jure pensiamo a jure ho finito ho finito tutto jure non erano i g1 che troia pensavo fosse un g1 eh bro è un nuovo rigazzo ok non erano i g1 comunque mi hai dato una mano gli ho tenuto la polga di faccia se non erano un palazzo mi lasci qualcosa che non c'ho niente grazie grazie per aver lasciato il cazzo vieni dai cazzo pensavo fosse un g1 raga invece invece abbiamo scoperto questo è sempre ho minacciato una pistola oh quel pompa lo vorrei io vorrei qualcosa ah amazing mi servono un po' colpi del medio io non c'era niente di mostruzione un culo un culo la balena un culo a te le bende le prendo via te guarda raga io vado a rivolvere il bar bianco devo dire blu ricordatevi che dobbiamo correre tra po' eh ma pochissimo granate qua se volete io io direi di andare ragazzi andiamo andiamo aspetta aspetta no non abbiamo altro tempo non abbiamo altro tempo praticamente dai tanto quello che potevamo avere abbiamo avuto chi ha dato ha dato scordiamoci ho passato c'era il medico io sono riuscito a trovare un m4 e un pompa blu più una pozione grande un caricatore di di rin di r ma che cazzo hai detto un caricatore di brum barabam barabum io ma c'ho 64 colpi ragazzi tanto tranquilli dobbiamo solamente oltrepassare i pennacoli Sergio Sala benvenuto agli sponsor no no ma là ci arriviamo là ci arriviamo da ora siamo lontanissimi ooooh lontanissimi non ce lo capisci dalla mappa eh come nel capo la macchina la macchina aspetta ah lo scusate so good so good so good so good è pompa viola? leo fox grazie mille bella daniel grandi raga pietro lewis grazie dopo tanto ricontrollo tutto questo si vai 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 questo mi ha messo molto bene di vado a te qui mi sa che loot si ma pure il fight è stato bello no per carità si si no io ho visto Mirko che andava avanti per un tratto ricordatevi i materiali ragazzi è fondamentale a destra c'è roba da lootare mamma mia qua passiamo buono bevilo bevilo no no bevilo bevilo ce l'hai qualche secondo bevilo checo aspetta che un attimo che lui sta bevendo il bibitone eh ragazzi i pinnacoli sicuramente qualcuno ci inseppiamo per culo si ovvio assolutamente anzi anzi mi aspetto pure i g1 sinceramente è la ruota preferita in questi casi penso safe ragazzi dobbiamo andare una r che merda io ho sentito un subwoofer poi non so voi ma qua c'è sta una vending machine bianca si si una merda beh ce l'ho io c'ho pure il mezzo però ce ne ho due secondo me più 3m che curare però puoi c'è la pompa verde sopra a destra anzi io sono in safe te si sapete che mo qualcuno addosso ce l'abbiamo eh ok oh ma non lo da non siamo gli unici che escono ragazzi eh sono qua io io re allora eh però mio questo ma ma andiamo un pochino più avanti ragazzi un pochino più avanti ragazzi ok era fatto era un palloncino quello io e va peggio le mani vedi come state messe 100 4 mi servono 41 vieni qua grazie ok grazie io controllerei a sinistra qua a destra secondo me non troviamo un cazzo da nessuno andiamo pompa 17 vieni qua 25 la madonna grazie guarda devo dire mi sono andato alla revolver ma ha salvato il culo però è rotto sto albrocchio come fai a dire perché posso darli perché sono mazzico davanti a noi sparano ragazzi quindi 105 105 eh qualcuno di bravo qua eh uh madonna uh raga raga vogliamo finire la partita dai sono loro sono loro raga finiamo sta partita va divertimosi abbiamo fatto una bella azione a spiaggia slonda ma è il momento di finire se mo ti faccio vedere mo ti faccio vedere guardate in mezzo agli alberi a foresta ce l'ho visto e non ho sparato si 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 c'è un altro a destra da sopra vicino l'albero la cazzo e non la bere tutta la bottiglia intendo io li pusho eh si sicura a me come me pushano mannaggia la morte non ci sono riuscito ragazzi carico no no sono loro uno stava qua io ho sparato non mi è morto sta sotto di noi eh sotto di noi eh tu chiedi qua qua no sotto qualità Non male grazie qua sopra qua qua di soli queste scale No Così stai facendo il biebitone Non lo vedo ragazzi Provi a restare e uno e cioè è me che c'ho il biebitone gigantropico vai via vai via No Stronzo Ma tu lo non rianimi Infatti te lo blocco Non potevo ragazzi Vai là sotto che qua là dentro E si ammazza Ma che vero? Che è questo il G1? No, il sbrocia A G1 stanno qua L'hai dietro al culo il G1 St'arrivati adesso E mi sarei nascosto e così non prendevano il loot No, 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 no Yure fammi entrare Guarda perchè c'è talmente tanta roba Ho visto volare un attimo Io ho finito i materiali ragazzi C'è il falò Ah l'ho là uno Più di uno Nell'officina Si Uno sta scappando Un attimo stanno ancora da dentro Vabbè qua non abbiamo giocato male No, no, no Io purtroppo non sono riuscito Però c'era tanta gente Cioè non neanche ninja Vabbè Vabbè Non capito Io non sono riuscito raga Non sono riuscito proprio Mi dispiace Vabbè poi ne parliamo Però secondo me Sai qual è il problema? E' che io gioco molto in altezza Invece voi mi rimanete sotto E mi portate il fight a bassi livelli Ma nel senso Parlo proprio di basso livello Ma non di qualità Di elevatezza Come ti posso dire? Ce l'ho davanti ragazzi Io ce provo Io ce provo Certo, certo Certo E' consigliato a sfidarmi In altezza Oh merda Vai, vai, vai Vai Con due? Tre Tre, due Non sono E' braviglia Finito i materiali Ho finito i materiali Ma ho rifinito i materiali ragazzi Che devo fare? Poi fra tanti vado appunto a loro E vabbè Sto scemo Ci provo raga Devo giocare Eh Allora si vince questo qua Il 500 Cazzo Andrew Globo Due euro C'è oggi ci sono Andretti Stimo bella Samu Mala Due euro c'è quando rigiocerei Solo in due con gli sponsor Non lo so Dali 23 Grandi raga ragazzi Due euro Pietrox Luis C'è con questi sono 27 Lavagnetta Pris Mo ti metto Pietrox Sergio e Leo Grazie mille e benvenuti tra gli sponsor Antonio 5 euro c'è Mirko Ti volevo chiedere se tu Sapevi quando uscirà il nuovo gioco di Spider-Man? Non ne ho idea Fran 1 euro Cristian 2 euro Angela Fran 2 euro Lorenzo 5 euro c'è di una volta Sono Chicco Bella Chicco Santruz Benvenuti tra gli sponsor E devo mettere Devo mettere Pietrox Fatti ragionamento qua degli occhi Vediamo di averlo scritto bene Perfetto Eh raga Pensavo che i C1 erano quelli dietro Invece ci sono andato in bocca cazzo Oh ma sei Avevo finito ad altri materiali raga Che vedevo di Abbiamo costruito come dei matti Antonio 1 euro Vediamo se è cambiato qualche cosa Seba 1 euro Cioè Mirko Essendo che qui Non sono abbastanza calati per scrivere Ho scritto qui Ok Poi vedo Tatan Caldo Niente Scaracca per Jack Machico Pocket Engie 2 euro Ti stimo moltissimo Insomma i 2 euro non sono molti E non fanno la differenza Consigli 2 euro simbolici Grazie mille Cosa? Smith c'era Stavate contro il TG1 mi sa Sì? Sì Perché sono Uno vestito da Reckens E un altro da Con John Wick Penso sia Wizard A lui piace quella skin Ok Ok Ho tolto l'audio io eh Se non sentiamo niente Perché ho tolto l'audio così Mi cotto pure un attimo No no Non è la tua madre lagga Ce l'avete contro la tua madre lagga C'è Reckens che è un mostro proprio Bravo 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 Però vi ho detto voi purtroppo Rimanete a giocare a Troppo bassi e mi portate il fight In posti dove io non ci sto Quello è il problema Ho capito ma non ci Non possiamo farcela con tre team che ci assaltano Ma come ce l'ho fatta io andassù Ce la potevate fare pure voi Ma è logico Ho capito Sì però In effetti sì Potevamo andare un po' più su Però ce l'avevo tutti sotto Eh però ho capito Se noi stavamo Se noi stavamo sopra Cioè non ti dico che era fatta Ma io poi a un certo punto Ho cominciato a scendere Perché non c'avevo il fight io Non avevo fight Vabbè me ne è passato uno Smilzo Smilzo è uno di vita Quattro dietro Io non lo sto a vedere È morto È stato bellissimo per lei Perché non me lo devo fare per Wack Stai campionando dentro una casetta È rimasto da solo Ragazzi se volete che ne facciamo un'altra Mi raccomando subito un bel pollicino in su Anche se ormai sarà troppo tardi quando voti Com'ha? Mi è arrivato un messaggio Scritto per quella artefice Non c'è capito cosa ha detto Ha detto che Uno mi ha scritto sotto i video Che è quell'artefice Cosa è caso? Della nostra sventura probabilmente Pazzo Peppa che botta Stai vedendo Ha colpito una Addio Più che altro però abbiamo Cioè Io ho giocato bene poi C'è pure io Io per fare una critica Engley, Rita, bella zi Venuto tra gli sponsor Non so nessuno Però Mirko te sei un attimo Un pappinato pure te Ho visto No ma non sapevo più che fa Perché il fight Non c'era da me Non hai capito? Io mi sono fatto un bucio di culo per salire Il fight non c'era più da me Che dovevo fa? È normale che mi sono un pappinato Perché se il fight Io me lo preparo per farlo sopra E poi me lo ritrovo sotto A chi cazzo sparo? A voi Ma neanche Più che altro devi scendere Poi gli altri già stanno a belenco Eeeh No Non sapevo proprio Non Mi ero preparato psicologicamente Per fare il fight sopra io E invece non è stato così Ma non fa niente ragazzi Cioè pazienza Che vi devo dire? Vedi che Lo vedi che Raggins Perché fa tutte ste kill Raggins? Perché sta giocando da solo No sta giocando da solo Cioè lui non sta a giocare di squadra Hai capito quello che ti voglio dire? Lui sta da solo Lui sta da solo E se la gioca col suo tempo Ma in realtà si Se la squadra te lo permette Ok? Se la squadra te lo permette Si Oppure è da solo lui No 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 Sta giocando da solo La squadra lo sta supportando Mentre lui sta a fare le kill Lo vedi? Eeeh che devi fa? Lo vedi? Wah Io lo vedo io lo sto a seguire Ma va bene bravissimo Però c'ha la squadra che glielo permette Eeeh non vi conviene cambiarla per lì Poi non so se sta giocando Se è rimasto solo lui eh Ah non so Però vedi Comunque li sta Strazzando tutti Perché lui fa sempre Va sopra in altezza Ma si gioca così Si Se tu fai l'altezza Stai a Perché prima solo ha perso Perché prima solo ha dovuto cercare Di far scendere quell'altro Vedi che non sta a giocare da solo Vedi che c'era il team E quello copriva Eeeh E' un po' differente eh Io sto vedendo un certo King Narcos Anch'io Deb 2€ Puoi salutare il mio amico Franox Fra Frafonix 89 Bella Si ma Si ma Sono rimasto in due quanto ti pare Ma Si 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 è bello Tanto se la sopportata a casa la Vittoria Se ne stanno accamberate dentro una casa Ma si si No Mi si è guidato Si No Tutti e tre Ma quindi sono rimasti 3 contro 2 Si ecco Gli stanno pushando E come cazzo fanno questi a giocare dentro casa Non ho capito io No ma Vedi Non è guidato però Sembappinato Sembappinati No no ma Già che giocano così sono morti Ah O gli dice una botta di culo Eccolo Ciao bello Che fai Ma no Qualcuno si sta curando l'altro e sta accamberare insieme a lui Dai Addio raga Quelli stanno sopra di voi Stanno sopra di voi No no ma basta che gli arrivano i missili è fatta eh Va va Tutti morti Tutti morti Va 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 Tutti morti Con la revolver E' stata facile questa raga in sezione Però ok Ah Sembrava caccia da revolver da me Essi erano facili dai Vabbè comunque sono stati bravi Io sfiga ho voluto che miso tutti prende in faccia E vabbè Dai facciamoci l'ultima va Ma ci stanno vincendo tutti tutti i G1 Ma grazie al cazzo oserei dire Ma sono fortissimi Ma che cazzo mi significa ma stanno a vincere tutti i G1 Ma grazie al cazzo Eh Che novità Però mi è più calmino eh Dio Vai l'ho data No chiunque Con il tantissimo signore Dai calmi Vabbè ormè l'ho data dai Vaffanculo Ormè l'ho data In che giotto natura siamo Eh l'ho data a tutti Mi sono sbagliato Al limite dopo ne facciamo un'altra solo con gli sponsor di nuovo dai Io ne vedo 14 Io ne vedo 14 Io ne vedo 14 Ma siamo un 14? Sì Sì Eh no Ebbè Perché era la partita 14 di persone bellissime Ma almeno la fai con gli sponsor adesso Perché trovo io Lui che mi aveva contato 80 a me Anche a me l'ha 86 Aspetta Ma che ti parteci? Vedi aiutare cosa a Mirko poi? Invitatemi No salate Jure Ah ok Ah Jure? Arrivo arrivo vai vai Invito io Jure su Ma venite qua? Eh A me non mi fa vedere nessuno A me non mi fa invitare che ecco Eh Mannaggia Vai salva scelta la Vai dai gioco Invitatemi Ah Dai dite che gliel'ho data? Fatto Ho dato solo gli sponsor quindi Mettete pronto Jure? Sennò quel cazzo che partono Così? Stanno giocando quando stai vedendo? Ma non lo so Non ne ho idea Vabbè ma noi ipotizziamo ragazzi come giocano Non mica siamo in domini eh La luna nera La luna nera Io non ho capito se l'altra lobby è partita Non se è successo qualche problema È partita secondo me Sì ma Ho preso il bus Eh ma quanti erano? Quattordici Eh allora E allora E allora non era partita dai Vabbè in giro era partita C'era il bus che volava Perché troia Qui dice ancora stanno a giocare Ho vinto la partita contro Ciccio Non l'ho incontrato Quattro momento Quattro momento Quattro Quattro Ehi Sol Ehi Ma come siamo così pochi? Non ho capito Sono un po' più forti Meno male Non ho capito sai Andiamo Qua? Ma no adesso siamo di meno Anzi proprio sotto a noi Leggenda Ho visto la nostra è un'auto nero Sì c'è gente C'è un team Magari c'ha qualche problema al gioco Ehm Due persone Come conta un team Tre, no Sì sì un team Un team, un team, un team, un team Proviamo ad andare tutti in casa per favore Sì Sto proprio sopra Uno è molto basso Merda I due l'ho buttati giù eh Oh madonna santa che ho trovato oggi Uno ha battuto Bene Un cuore stai cagando un bomba Stavo scappato bene Io o non i miei quattro? Io Sì no c'è l'autorafica Come stai cagando? Ehm Gente qua No Gesù Dove stanno scusate Era eliminante Era da sotto Dai lo udiamo Attenti eh Sì sì Però a me piace giocare contro i fan Ehm Mi piace Mi piace bene bene Molto Tra virgolette Competitivo E' più tesa E' più tesa Perchè Perchè ci teni di più capito? Perchè se non ti butto tutti a pinnacoli non muoiono subito Anche Anche è vero che madò No Sono rimasto in 37 Però Ok Secondo me non sono riusciti a Entrare a G1 A generare Ehi Vai Ok 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 Ehm Ehm Non pensare male tu Ah Eh Finile rosso? Si Eh Non c'è più Finile rosso Ok Ma io lo vedo ancora qua Finile rosso Ehm Ah Trappola Bravissimo Ma sei un pro Ho un pro Pulo tu ma Mia mamma Raga Checco vieni qua Non usare niente vieni qua Non usare niente vieni qua Mi mando al motel Oh la madò Si ci sta un tot Ci sta un tot Beh io bevo Mi raccomando un bel like alla live Se no Yure Tiange La vita reale però E spero un cecchino da aprire la finestra Sì Non so se siete d'accordo ma magari domani possiamo fare le solo In singolo Cioè le partite In singolo Secondo me è più figo Che dite Eh certo Tu sei tra un perculo Puoi fare anche metà metà se vuoi Guardate il giustizio tu Cosa? Nel senso come vuoi fare Nel senso vuoi fare metà Solo si Metà squadra Metà singolo Solo singolo Poi vediamo Poi vediamo Poi vediamo Checco Ancora sei con Blu Sì Ok ma sai che dopo alla fine ce ne facciamo un'altra Che dite La sopra pozione Qua altre casse Sì però a me non mi Se a me mi si bugga l'arma Chi è stato? Oh Per cosa? Bug granata chi è stato? No Checco? Scusate stavo parlando col muto Eh mortacci tua Non so Non è particolare Andiamo tutti insieme Sì Arrivo Dai 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 È tempo di lootare Però se Dai 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 Era anche con un loot Qua si poteva fare tranquillamente Comunque secondo me G1 non so riuscire a entrare qua Magari era andato a quell'altra Sì non è che sono più importante Beh oddio io sinceramente sì Preferisco farmi un fight Preferisco farmi un fight bello Anzi Cioè Vincere una partita Dove non ci sono i G1 Ipoteticamente ha meno valore Di vincerne una senza Secondo me Sembra se la vingiamo Eh siamo arrivati due volte a secondi Cioè Comunque va bene ragazzi Ripeto sti cazzi eh Poi comunque loro Non c'hanno Nell'orecchio Gandalf Che fa Fa Paraparapa Una chat da Edge Insù Qua ovviamente È loot Cosa? Motel Guarda là su che fortino Qua c'è un medico Che sta là sopra Quello me l'ho andata a prendere Vai vai Fortino di merda Quello là sopra Ma che vuoi le granate in pulso? Eh Se le dai Se Tiè Tiè te lascio Tiè No non credo che ci sia nessuno Possiamo andare a vedere Ma Medico 66 Che cazzo Ehi Siamo amici Poi la cosa bella è noi camminiamo Camminiamo Corriamo Camminiamo E poi corriamo Puoi essere Just Non Just Ma quando è che è uscito No ma è just Nuo Col telefono Non so Vale Ne è bastato Uno Sto per romprecca Ah Zefregna Badabim Badababim Badabim Ah ok Anche con la connessione buona No eh Ma giusto per far casino Nelle mie cucchie Eh sì Non berri coglioni Chi è che ho le colpi medi? Io Anzi Colpi del cecchino WIIII Ma cosa? Sfigato Vieni Vieni Ma se gioco è fuso Pecchino Grazie Perché qui ce l'ho fatto niente Non so poter Se gioco è fuso Dai raga Oh Non è fuso Se tu hai fatto una caduta Ma Mi sono costruito Hai visto? Oh che se c'è anche il team di prima Che ce ne stanno certi molto forti Sì sì I Arix Atrix Cioè It's brocia Quello là No Non intende quello Andiamo in safe Cosa? Andiamo in safe Una capatina a pinnacoli Ma la farei Abbiamo del tempo Se quindi allora Quando c'è niente qualcuno ci sta Ma Ma Questo gioco delle volte Dice delle cazzate Imbarazzate Mi ha appena detto a me Va E' parecchè un'altra scalinata Non è calda Non mi sono fatto Razzo Io Posso? Sì Ti loco Grazie Che cos'è? Sì 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 Io ho il paura se volete ci ciò che che que trading Sì sì Ci ciò che que che Ottimo Compa io non ce l'ho Ma Fui personaggio Vedo un cazzo di nessuno Vedo le scale Fatte bene Vedo nessuno Ragazzi non è loot Ragazzi non è loot No ragazzi non si è buttato nessuno A pinnacoli Sopra sotto qua che cazzo significa Qua puzza Non la posso prendere io Chi vuole la puzza Non la posso prendere Prendo io dai Altra puzza qua Dove Iure? Sotto qua Sto arrivando Io ho preso la COG che è devastante Dove c'è la cassa C'è nessuna pinnacoli ragazzi Ho detto tutto Oh desert eagle cazzo Allora andiamo safe dai Partita del cazzo posso dirlo Dai cassa bella Sopra di noi Dove? Eh sinistra 300 200 Sopra a sinistra Ok Full distance Oves Ah ok si ho visto le scale Mi vedo con che Eccoli Porco mondo Battuto Bravi Non è vero non sono più bravi Sono morti? Morti tutti? Eh sì Sì l'ho presa la vado a prendere io Qualcuno ha una pozione in vivo? Io Giù 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 Che significa giù giù giù? Niente non c'è più Era Fedez Safe Safe Arrivano 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 Anche Fedez E' sì Fedez E' un grande fan C'è una canzone dell'altra Canzone Dai so belle Assolutamente no Vabbè a me piace A te no Dissinga Fedez Sì me la prendo sta safe Ah io me la pio andai Che Male che c'ha due medikit E' so bello E uno passa Sentite che c'ho dei colpi medi? 57 60 Infine ho ancora più di su Vuoi continuare mi assumi? Dove devo sparare medikit? No mi rianimano Davanti a noi Davanti a noi Pechina dal nord Venite Mi devo curare Mi devo curare Io E lo so Devi andare in ospedale Allora Che la fai? Sì Dove ho intanto i colpi medi Volte Eh Pro Che ti vuoi star Ti hai fatto una pirata Colpito 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 Ha battuto uno Non ho medi Non ho medi Non ho medi Non ho medi Da me Da me Da me E tu la metta E ecco ti voglio la butta sotto Vogliamo andare? Vogliamo andare? Vedete? A sinistra A sinistra Che sparano Sì sì È una cosa No no sono due Ma c'è l'albero in mezzo Venite con me Che andiamo in testa? Sì Vuoi andare sopra? No Vado sopra io No Alla in bocca gli vado Sì Eh due da me ragazzi Mi hanno fatto Niente Dietro di voi Iure Ok Mi dispiace Mi manco Che cazzo ti fai Li troviamo Me la sparo Una benda Andiamo in safe ragazzi Cazzo ti fai Andiamo sopra Medi come state messi? Sì 300 Ok dopo dammi un po' Lasciati Sto bene di mattoni Dai 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 Qua sotto raga Ok parto Safe 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 Dai dovreste stare pure bene Li trovate sotto eh Sfruttate il vantaggio Eccoli No perché hai fatto questa cosa Rompi 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 Fallo sci Rompi rompi Fallo sci Poi posto Non c'entrava Sopra Io non c'entrava Madonna Io l'ho fatto Nella costruzione Stava sopra Checco Rianimalo Costruisci bene Rianimalo Capito Ho lasciato da tutti i pezzi Prima iure Cazzo Prima iure Ma perché Stavi a 4 secondi Ne avevi fatti 4 ormai Ma che cazzo fai Oh Iure esci Ho shieldini E ho Ben Ma fai lo spicchio vai Ricordo che ce n'abbiamo uno dietro Vi servono ben Aspetta Devo prendere io Che deni però me li posso dare Voglio vedere come va Giocate qua Stanno di un sopra ragazzi Ma sopra 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 Non costrui Checco Inutile Checco puoi costruire Di chilometri Di chilometri puoi costruire Non so Jump ne avete? No Safe ragazzi State messi nella merda Dai 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 Fuite Farete Farete Ah no Tua madre Tua mamma Se c'è i shield Tira lì Qua sta Uno qua sta qua Stanno scendendo Checco Mi si è baggata l'arma Cristo Dio Eccolo Sinistra Checco Qua puoi andargli Sopra checco Eh Vai Sopra checco Sopra checco Sopra checco Sopra checco Ho scaricato il coso Erano gli ultimi? No no Mi switcha l'arma Vabbè tanto questo è morto Questi sono tutti morti No no questi sono tutti morti Perché lo rialzano ma muore No ma che rialzano Ma che rialzano No no ma sono morti Sono morti Sono morti ragazzi Qua Questi hanno vinto senza far un cazzo Non ci credo Non ci credo Va bene va bene Più che farmene due alla fine Non posso fare altro cazzo A me purtroppo mi hanno steccato subito ragazzi Che devo fare Facciamocene un'altra ma C'è un'altra hai detto? Si Se vi va eh Si si qui sta Quando è l'ultimo Allora Intanto lo posso fare pure qua Quindi mettiamo sponsor L'ho messa Vai l'ho messa Vediamo se sono arrivate donazioni L'ultimo era pocket No posso Si sono bloccati Va bene Va bene Quando sei? Capire prima no? Si 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 no Ma prima Ma prima Si era buggata Te l'ho detto Prima si era buggata Prima si era buggata Tu devi costruire come un cane No vabbè Che devi fare Purtroppo ci avevano fatto male Che devi fare Qua siamo contenti Ciao Bella zio E la madonna Che cazzo D'esagerazione No regà vai me ne frega un cazzo No non me fate Sto sincero regà Preferisco perderla subito Ma almeno divertirmi L'operazione è sciacallo L'operazione è mamma mia Se va battono quanto scappo Regà davanti a noi ce ne sta uno Che Sì ce stanno team Ma questo è bassissimo All'anima degli meglio mortacci Sua Ma dove fanno Che cazzo ne so Eppure questo è basso Ok Ok Ha battuto uno Ci siete? Tutto a posto? Sì Battuto Chiamateli se avete bisogno Ok Ok un team è andato via Qua c'è una pozza Dai 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 Oh M4 verde per voi Io Io sono bianco Oh Questa palestra è invitante Ok Non credo di niente Solo Io è qua Se volete Voglio dei materiali adesso Dai raga con calma Cerchiamo di fare le cose fatte bene Se questo cavo non si toglie dal cazzo Ti faccio vedere io come lo stappo Saperlo prima prendevo dopo Eh Le cose per domarli tutti Certo legno Ok Qui che ci sta È ritornato È ritornato anche Seba Occhio ragazzi Che bravo eh Io ve lo dico Bella Pino Gamer Pino Una scende grande Un po' ballerina Che maledizione Fugile a pompa qua M4 Blu C'è un sacco di roba qua ragazzi Sì Ah ma si fa Una lutata Vai io Non ho Questa miseria Mi arrepende qualcuno ce l'ha Io Sì Io Io Mi chiedi Ma non ho una cazzo ragazzi Mi chiedi Stai un secondo Tieni Correte come dei cagnolini Ecco E questo è il bando La compagna La raffica blu Come avete ruotato Scusate L'avevo detto L'avevamo chiamato L'avevamo chiamato La raffica blu Se poi tu sei Tardo No no La raffica blu Ho preso io quello Che hai detto Ok Scusate Luca Biox Bella zio Grazie mille Croxy Due euro Circe il king di fortnite Approved Grazie mille Sergio mi fai salutare a tutti Ci vediamo a Legnano No non ti faccio salutare Ma non c'entra niente A Legnano ci saluti Vieni Ragazzi Seba è morto E Seba mi sta osservando Ah Cazzo Oh cazzo Dove Pampa verde Pampa verde Pampa verde è qua ragazzi Venite qua Pampa verde V'ho lasciato Multicolpo Anche quello bianco Invece quello verde Ok 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 Ah perché ho trovato quello leggendario Capito Sono molto contento Tante bende Le prendo tutte Attenzione come siamo messi Bene Molto bene Molto molto bene Vuoi condividere? Tieni Tieni Ok Questa la prendo Pampa Pampa che vuoi? Pampa colpo Abbiamo 22 no Ma l'impressione è una cometa Ogni volta ci viene di più No non è l'impressione No 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 Porto due Manu Ferriero 2 ore e 29 Ci sto sempre io Ci bella zio Guardate la cometa Ammazzola In questo caso Che siamo vicini alla cometa Ma invece che volete la cometa Guardi più attorno Effettivamente Ma però è vero Ah ho capito Votato un cazzo Dai Altro scar Chi lo vuole Beh Se proprio devi Vengo io Dov'è? M4 blu Per chi lo vuole Io Come cambiano gli oggetti La fega blu là Medi ragazzi Io 136 140 Mirko regalo di tono Oh so good for me Avete qualche colpo del cecchino? Cecchino 3 Io Sento 9 Game bro Grazie mille bro Ma nord ovest mi secondo me è stato usato Cosa? Nord ovest mi secondo me è stato usato Ma più che altri vorrei trovare i team Cristo il signore E mi sembra anche che non ci stanno i G1 Non andrà forte Mannaggia Allora Qua non è loot Ragazzi Vabbè ma io non capisco Io non capisco ragazzi Ma tu cazzo se buttano Napoli Ma no no Sono ancora 36 Slurp Sceldini Chi vuole le bende? No le tengo io Sceldini posso prenderle io bro Eeeh Mh Vabbè Le bende posso lasciare C'è l'interno Lo lasciate sopra Mirko vieni qua Very nice C'è anche uno slurto qua Eh l'ho detto sopra Io l'ho detto solo Checco mi trovi Checco se 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 Arrivo Ma ragazzi Ci stanno a pià per culo Dai sono rimasto in 36 Ma due stanno Voglio inventare tutto blu Sono molto contento per te Oddio che stai madre Ti fa vedere un medico Bende qui Là c'è un altro slurp Posso prendere checco Un'altra volta No ragazzi Siamo in 36 Seriamente 35 Io non li vedo Io non li vedo Mi si bugga un'altra volta Va bene A prendere la slurp Ah Grazie Grazie Niente Io non mi servo Ok Hai il droppa Davanti a noi Davanti a noi Davanti a noi Dopo dietro Dusty Teepot 60 Arrivo Come on Come on Come on Come on Stando che non mi inculano Da dietro Lai la jump Sì Mi vedo Sarà come cazzo Mi pare Ma non l'ho preso Una volta ragazzi Perché mi ha fatto Non ti meno Raga mi stanno Sparando un tot Non li prendo Non li prendo mica Non li prendo mica Non li prendo mica Ma dove Presa Abbattuto Siamo lì Oh Namo Via vieni Sì Sì Dai Dai Chi è Noi sono Cazzo Per i turn Anseghi Non lo dico Devo andare Devo andare sopra Devo andare sopra A dietro È sceso Ragazzi È sceso È giù Noi sono Noi sono Ma Sono fanfight Questo Vabbè Corca troia Raga No Ma mi fai incazzare Perché dovevo fare il muro C'avevo l'arma in mano Ho premuto qui Sono morto ragazzi Sono morto ragazzi Non capisco il motivo Per andare qua Perché c'era nel c1 Scusa Ma Io ripeto ragazzi Non voi rimanete sotto Io stavo soprissimo Ragazzi Stavamo salendo Ma no Stavamo salendo Raga io ne ho battuti due Abbiamo costruito Eh ho capito Ma io ho costruito Ma se mi venivano da sotto Da dietro Io come cazzo faccio Mi dovevo ricostruire Mi sei bancata l'arma Ragazzi Voi potete dire Quello che vi pare E fin qua Ci siamo Io vi dico La mia visuale Io Ho fatto Uno scontro di torri Di costruzione E sono riuscito A vincerla Ne ho buttati giù Due Io poi non so Quello che è successo Voi potete dire Quello che vi pare Però io Due le ho buttati giù Eh io ti dico Che non ci sono riuscito Perché mi è arrivato da dietro Ho capito Ok Fai attenzione Dietro la prossima volta Che cosa ti devo dire Se ti fa in culo Se ti fa in culo da dietro Io che colpa Ne ho Sì ma tutti Non possono Ma tutti Non possono Sparare a te Se uno Se uno L'ho preso io Uno l'ho preso io Che stavamo a fare la guerra Fra torri Sono rimasti tre Voi siete tre Stavo con soul E ci stavano massacrando Andando i due Poi Dov'eri tu Non lo so Per neanche T'ho visto Sinceramente Quindi Io so solo Che stavo facendo Un cazzo di fortino Per andare sopra E basta Non ci sono riuscito Stavano messi meglio Loro Perché stavano No Sono più forti Stop Sono più forti Che co Non è che Stavano messi meglio Loro Sono più forti Fine Fine Ma non è vero Il fortino della madonna L'ho costruito io Ah tutto tu Quella barata Quello la si Fatta vedere la live Quando la ricarica Perché ormai Eh Ma va bene Non fa niente Non me la so presa Vi sto dicendo però Vedete Ne avevo abbattuto uno L'abbiamo attaccati Quindi uno stava Con 30 di vita Regà Uno me lo so portato via io Quindi c'è Capite Sono più forti Punto e basta Ragazzi Che dobbiamo fare Niente Eh Sono più forti E va No ma che cazzo Dici A che come Ma che cazzo Stai a dire Ma che ne era la pusha A me non me ne frega Un cazzo Di vincere partite Io me voglio divertire E scontrarmi contro Quelli più forti Eh Non me ne frega Un cazzo A me di vince Perché mai pushiamo Come si deve Mai impariamo L'hai detto tu Prima ci dobbiamo imparare No non è parte vero E punto Anzi Non capisco perché loro stavano scappando Non capisco perché loro stavano scappando Perché loro Loro No ma loro Ma che c'entra Comunque Il fight Loro hanno perso tantissimo tempo Non ci hanno proprio attaccato loro Eh Però sinceramente Io non scappo Ma che cazzo me ne frega Io attacco Anzi Ne avevo buttato uno pure Cioè ne avevo pure abbattuto uno Quindi Vincimelo Vincimelo Gli hai regalato pure un medikit Mannaggia A te Mannaggia Purtroppo raga A livello di squadra Non ce la facciamo Non c'è un cazzo da fare No giochiamo male noi A livello di squadra Non ce la facciamo Giochiamo male E giocare male Ma cosa intendi giocare male Giocare male nel senso Come sei Come ti posso dire Cioè se tu mi dici di skill Non è giocare male E quello è il livello di skill Giocare male La tattica Era ottima ragazzi Non siamo riusciti A farla Con una battuta E con 30 di vita Il team va Rusciato ragazzi Non sepiamo per culo Non sepiamo per culo Aspetta Cioè io ad esempio Ad esempio Io eh Io Quindi Allora Sai che cos'è Non ci ha rotto il culo la safe Checco Non ci ha rotto il culo la safe Non parlo di quello Io parlo che Potevamo andare a farci I cazzi nostri in safe Ma perché Ma perché Che gusto ci avevi Ma quindi non abbiamo Giocato male Sono più forti i punti e basta Ok va bene Però io Come avrei fatto io Ma per fare che cosa Per ritrovarceli Per ritrovarceli dopo Eh Ma che cosa cambiava Che là Stavamo in vantaggio In quel preciso momento Ce n'era uno abbattuto Ce n'era uno con 30 di vita In quel momento Loro ok Che sono bravi Non dico che sono scarsi No non capisco il tuo ragionamento Ritrovarceli dopo Per fare cosa Allora Per Per fettarli Al dopo Ma perché Ma che ti frega Del numero che c'è scritto Sei arrivato primo Ma quale svantaggio Eravamo in vantaggissimo Ce n'era uno abbattuto L'hanno rianimato 30 di vita Quindi noi eravamo full Stavano sopra subito al fortino Io porca troia C'ero solo io Con un altro sopra al fortino Gli altri saranno saliti dopo No Mirko Perché non siete Perché non siete stati abbastanza veloci voi Ragazzi ce sta E' più del delta plano No non è vero Non avete costruito abbastanza ragazzi E' così Cioè non è che loro sono maghi eh Loro sono molto più veloci Abbastanza Per me Per me no Perché io ce l'ho fatta Voi stavate con me Oh voi stavate con me Allora Ma cos'è Il delta plano No anzi si 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 Io stavo scendendo sotto Ma quei tre secondi Quei tre secondi Non ti hanno cambiato la vita Quei tre secondi Non ti hanno cambiato la vita No Guarda sono mie Sono mie opinioni Poi ripeto Vabbè Io sto dicendo la mia Non è libero Non è libero Poi ci si mette una ragione Poi se non la pensa così Comunque Un'altra cosa Aspetta E mi è partito un ultra estinto Aspetta Eh Qua Qua Quanto Un euro e cinquanta Un euro e cinquanta Sì so bug del cazzo Ah sì Ah vabbè Quindi sei sicuro Sì sì Ok lo vanno Ne ho uso 312 Vabbè non lo vanno Ma cos'è sta HUF Fiorini Ungheresi c'è scritto Ungheresi Sì Che sai che dona Uno che c'è Uno che c'è L'ha Che parte un ultra estinto Nascondi un utente dal canale L'ho fatto Non posso Vediamo Ma la gente non capisco Deve romper il cazzo Sinceramente Fa partire un ultra estinto così Boh Vabbè No Vuole un bug di stream Sì sì No Assolutamente Però il problema è che Poi mi toccherà Vedi Perché la gente Ogni volta Eh sì 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 Porca troia Quindi mi toccherà Andare sui setting Di chi accetta solo euro E bla 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 Forza E Bravi 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 Vabbè 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 Comunque secondo me Abbiamo giocato male Poi Abbiamo giocato male Sì Facciamoci Io ti ripeto Non sono d'accordo con te Io non sono assolutamente D'accordo con te Giocare Un'altra cosa Giocare safe Come dico Io sto a fare La singolo Ah La singolo Sì Salvia State pronti Aspetta Aspetta Posso mettere già gioca? No Salvia Salvia In singolo Vai vai Scrivete singolo Vai vai Mettete Vai Pass Singolo Data Non sopportato Vai 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 Adesso vai 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 Aspetta Mettete Oh salvia Allora Mi sa che non giochiamo Perché l'hai fatta dopo Aspetta No no Ok Ten coda Coda è piena No Dieci A me addirittura non va Palle Aspetta Aspetta Nullo Nullo No non mi partiva Si è buggato Ah ok Grazie a metà di gioco Battaglia reale Ok Ok Ma ti dicevo Cambi password Si 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 Ho messo fiume Posso partire Aspettate quando vi dico io Vai Probabilmente Aspetta 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 Vedete se va Metto Andate Si Stai caricando Ok Ci sono una cosa Si ci sono una cosa Si C'è pronta Si Vedi adesso va 28 Come fanno essere 31 4 Ah ok Ma infatti Dicevo è impossibile Aspetta Ma sono ragionamenti Secondo me Semplicemente Sono più forti Ma vabbè Ma dopo ne parliamo off Oh ma Ripeto E così ti disso Oh ma non ce l'abbiamo fatto Perché sono più forti Ragazzi È proprio uno stile Di vento Di giocare Ho capito Ma il nostro stile Di muoverci Secondo me Vabbè te lo dico qua Non è che dopo Il nostro stile Secondo me Ovviamente Non dico che te sei un cojone Ci mancherebbe altro Il nostro stile Di muoverci Secondo me Così troppo velocemente D'andare subito Ci sono già popolate No che c'è Ma cosa Non c'entra niente Non c'entra niente Non c'entra niente Noi eravamo usciti Noi adesso Era un 1v1 contro loro E noi eravamo un vantaggio Va bene Va bene Però dico Vuoi mettere tu Che ti fighti subito All'inizio E non dare una città Non capisco cosa c'entra Ma non capisco cosa c'entra No ma non c'è discorso Sol Cioè non c'entra niente La città Di lootare subito Che c'entra Magari loro scendono a pinnacoli Cioè non c'entra niente Il tuo discorso Lì fai finta Che era una mappa vuota 1v1 E questo era quello che è successo Va bene Ok E Per quanto riguarda il loot Cioè nel senso Lootiamo bene bene E poi vedi come No no Ma c'era L'avevamo tutto L'avevamo full shield Là stavamo Futuro informatico Grazie mille No là stavamo troppo bene Sono semplicemente più forti Stop Vabbè Di noi messi insieme però Eh certo Non gli scherzi Ma pure 1v1 Sono fortissimi ragazzi Eh non è che Ma io non metto un dubbio Ma dopo ne parliamo Ma non c'è Praticamente niente da parlare Ma quelli sono problemi vostri Quelli sono problemi vostri Io non ci posso fare niente Se il team è bravo A riandarvi sopra GG per loro Qua qualcuno Qualcuno di voi Ha sceso a tomato Vero? No Non so Ragazzi Ci stanno troppi corvi qua Mi piate per culo Io me ne sono andato via Vai tranquillo Io non sto Dio usignolo Dio usignolo Ma mi ha rovinato un game Ragazzi Tanto sono morto Ragazzi sono morto E questo che cazzo c'è fa qua? Ma chi è Reckens? Mortarsi Mi hai rotto il culo Mi hai rotto Dai non si è fatto Stai zitto Stai zitto Stai zitto Stai zitto Mi stai facendo fare I miracoli Seba ti voglio bene Mortacci tua Mortacci tua Mortacci tua Io lo sapevo che tanto Era uno di voi qua Guarda seba come mi ha attaccato Sto maledetto Io non c'avevo niente Sto maledetto Hai il mio M4 Oddio sto nano Madonna sto nano Era un pick up Portacci vostre E pareva che c'era uno davanti Ma che gli racconto Che gli sta la testa Oh 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 Questa piscissima Vabbè Chiure? Io lo sapevo che era Reckens Questa la visita a me Eh? Ti trovo a rocce sta Lo so zitto Lo so Quante cazzo mi sapevo? Eh vabbè Eh vabbè айте E poi Pignano 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 Dove l'hai trovato qua il nano? Nella stanza a destra Mazza che giocate che ho fatto qua ragazzi È un E18 mi bastava per ammazzarti porca troia Eh bro ma mi son mosso bene Tu c'hai il pompo allora non mi ricordo Il pompo singolo Mortacci vostro tutti qua stavate siete dei pezzi di merda A me mancava solo un cojone da ammazzare Caga sotto del cazzo che non sei venuto Eh no mi madre Tu non puoi capire in che maniera sto camperando Sto ho 80 personaggi No a me me frega un cazzo Ho fatto vedere quanto so bravo qua A me sta bene così Perché qua l'ho giocata bene Ripeto io la penso diversa No no ti ripeto però Taci degli restau di merda Un montagnole maledetto Non mi servono assolutamente i materiali Comunque non vi credete io sto una merda C'ho 100 di vita raga Se trovo uno leggermente bravo Come quello che ti ha lasciato di nuovo di vita prima Seba Seba Ma Seba è bravo Seba è un ottimo player Ah si No no Seba è bravo raga Si è bravo Non è vero bugiardo Sto cazzo Ha pure diventato la partita prima contro il c1 Mo ne è bravo Perché ho ammazzato io Mo è diventato scherzo Seba Cazzo Iurei guarancia guaccio Poi ne parliamo Iure Bastardo E stavo che ero io Quello che avevi visto Ah ma io no Cazzo Perfetto E cazzo L'aspettavo gli andavo detto Ah ma mia Io sto lontano un chilometro Che facciamo C'è un segretto e forbice Pressione per incontrarci Andate a fanculo bastardo Va bene Ma visto che sabato La prolunghiamo Ma si Se stiamo a divertire Ma che cazzo Ce ne frega Dovete i porti la prossima volta Ma va a fanculo bastardo Dai Struzzo E io una prossima cosa Struzzo infame Che poi Avete tentato tutti Di ammazzarmi Mortacci vostra Dai però Stai vi lasciando Io ti stavo lasciando Non mi stavi lasciando Non mi sembra Non mi ricordo Ah si si E che te devo lasciare Prendere le armi Vaffanculo mori Ma io volevo Una vendita Solo con le mie 4 Almeno ho trovato quello Maria L'altra alternativa Era offrire Trendo di legno Per la mia vita Beh Potrei Potevo anche accettare Volendo Sì mamma Avete lasciato Con una tale vita Che non sono competitivo In questo momento È impossibile Arriva uno Tra Da dietro S'ho fatto Raga E non trovo Casse Ma bene Va bene Va bene Sto facendo Run simulator Io penso che Seba Ma abbiamo Ah lo sapevo io Cecchino Sì Cazzo è lontano Where are you Where are you Dio Dio Brunello Cazzo Brunello Mi ha ucciso C'ho avuto problemi Che costruzioni Sì 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 Mi sono impattinato Impattinato Va bene Va bene Va bene Futuro informatico 1 euro Bassem 2 euro Ci puoi entrare Della VSP Salute E Alex 1 euro No ho voluto troppo Voluto costruire troppo Invece non sono riuscito Capito Dovevo accontentarmi Lo potevo ammassare Niente È stato un coglione Un deficiente Proprio un coglione Va bene Va bene Ma stavo messo troppo male Ma si cazzo Hai dimostrato Che qui non ci sei giocare Hai dimostrato Che qui non ci sei giocare Non ho capito Non ancora E qui non ci sei giocare Non ho capito Serio Non ho capito Non c'è senso Eh Non capito Giuro Ah ma tu Tendi come Posto Fisso Ah Era capito Era Era complicato Era complicato Io infatti ho detto Madonna che elevatura Intellettuale Che ha tirato fuori solo Perché io Cioè regà M'ha ucciso Marco Brunello Che non sa neanche Tu abito Regà Perché ha bevuto il film No ve lo dico M'ha ucciso Ma non sa neanche lui come Vabbè Non si era incassato Dentro la piramide Prima Non dire che non stai giocare qui Cazzo Marco Brunello Grande Marco Brunello Ah Quella è Reckins No Quella è mimante Non è che ognuno Che costruisce Reckins Quella è Reckins Eh Guarda Marco Brunello No Marco Brunello Ragazzi potrebbe fare una strage Rompendo questa scala Ma non No non credo che ci arriva Regà Non Non ci arriva Guarda Marco Brunello Continua così Guarda 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 Marco rompi Ti ho pensato adesso Ma rompi Ma no ha problemi Deve rinforzare Ragazzi guardate che cazzo Mi ha ucciso Ma pochi di sotto No troppo facile Ma è grandissimo Guardalo Dio Merluzzo Lo conoscete Il Dio Il Poseidone Eh Proprio lui Ma Maurizio No Maurizio Poseidone Dai Dio bello Dai Avete quittato voi No no C'è Marco Brunello Che mi ha fatto emozionare Ragazzi Mi sono emozionato Con Marco Brunello Lo sapevo che mi arrivava Una cecchina Però vedi Quante kill hai fatto tu Checco Zero Perché ho camperato Oh E che cosa Ha portato niente Io almeno 5 kill L'ho fatta Mi sono divertito Ma sono due concetti Di giocare Completamente differente Ma è logico Certo Ho camperato Dietro una collinetta Ma pensa un po' Quanto sei figo Che c'avevo Raggins C'avevo I G1 Ma che ti frega Ma vai addosso Imparate Divertete Su sto cazzo di gioco Ma vai E dici Madonna Ha rotto il culo Uno forte Invece guarda Io mi sono fatto ammazzata A Brunello Che non sapeva Neanche dove stava Porca puttana No ma dai È andata così Va bene Sto contento Per Brunello Però Cazzo Ma facciamo non altre No basta Basta Aspetta Su di sponsor So Poi giochiamo in 20 Sì cazzi Super Nancy Bella ciccio GG Grazie mille bro No ma voglio vedere Questa qua Comunque grazie mille A tutti Per essere passati In la live Spero vi sia divertiti Io Il problema è quello Capito Che ho voluto troppo Cioè delle volte Io esagero Perché contro il Brunello Potevo vincerla facile Invece Ma sai che c'è Perché io mi voglio allenare A diventare più forte Quindi anche se sbaglio Ho sbagliato La prossima volta risbaglio E risbaglio La prossima volta risbaglio E risbaglio Finché non sbaglio più Così si diventa forti Non camperando Dietro le colline E ogni riferimento È puramente casuale Capito Io preferisco Io preferisco Che sbagliamo Ma pure nella Regà Ma pure nella vita Bisogna sbagliare Perché se no Non diventi Non impari mai E lo stesso Lo metto nel gioco Potevo giocarmela In maniera differente Non mandava Sti cazzi E mi ha massato Brunello C'è capito C'era un inc1 C'era rega Wizard Ma ha ucciso Brunello a me Capito Te farti capire 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 che Con un È così Dai Ho sbagliato E va Si si Ma Mi sa che Ariax Qua Però è stato bravo Però è stato bravo È bravissimo È bravissimo Chi state vedendo Ariax Samug Sì Io calcola Sto vedendo il nemico No Il nemico è morto È impossibile È morto Il nemico È morto Il nemico Ma che c'hanno Quanti problemi c'hanno I nostri colleghi Jure Non lo so Uno che fa i codici da vinci Per 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 Qui tu non sei Non ho capito Eh ma qui tu non sei Non ho capito Ma qui tu non sei Che cosa Ce l'ho tutto a spiegare Che cosa Ma neanche Jure L'aveva capito Capito Era una cosa Intellettuale Troppo levata Per me L'ho messo È levata Volere Volere Aguantarla Ah Perché qua Ah No Io mi sono Davvero divertito Arriva un altro Mi sono divertito tanto Grazie mille a tutti Tranne a che Che ragiona Proprio a cazzo No Non è vero Ragioni a cazzo Dai ragioni a cazzo No a cazzo Ragioni a cazzo Ragioni a cazzo Ma per me no No ma pure per il resto Da chat Ragioni a cazzo Sì Sì Bravo Eh allora tu devi prendere Esempio dal tuo team leader Devi diventare bravissimo Devi giocare come il tuo team leader Cambia il tuo cervello del cazzo Bravo schiavo di merda No ma io se ti dico le cose È per darti i consigli bro Ma ovvio Cioè Mi vuoi male Mi vuoi male Il camper ci sta Ma non conviene No non è capito Parlo proprio in generale Proprio in generale Capito Prima dovevamo attaccare Poi comandata è andata Se voi Dite ok Abbiamo sbagliato Ok sono più forti loro Lo mettiamo Riusciamo a capire Dove poter andare A migliorare Guardate che noi Siamo migliorati tantissimo Dagli inizi Ovviamente Dagli inizi Siamo diventati molto più forti Ok Adesso dobbiamo aumentare di livello Tutti quanti Anche singolarmente È importantissimo questo Ma Dobbiamo cambiare lo stile di gioco Cioè io forse Già l'ho cambiato Adesso devo diventare Semplicemente più bravo Perché adesso io qui Mi sono impappinato Con i tasti No Voi dovete imparare Che dovete costruire Tantissimo Ma da subito Dovete prendere l'altezza Perché finché giocate Contro la gente Non forte O mediamente forte Ce la facciamo Ma se giochiamo Contro i G1 Che giocano solo a questo Tutti i giorni E si fanno 6 7 8 ore di game al giorno Eh ragazzi Eh Però Prima incominciamo a giocare Nel loro stile Che è quello giusto E lo stile di ninja No? Prendo di riferimento lui È fondamentale ragazzi Ma ripeto Sempre cose Consigli che vi posso dare Leo Cata 3 euro Ciccio legge la super chat Che ho fatto prima Leo Bella Ciccio Sai quando distruggeranno Pinnacoli? No zio Se no già te l'avevo detto Mi dice il 18 aprile Vabbè ma non lo posso Cioè non lo so Quindi Fabio Ciccio ma Clash of Clans Non lo porto più Clash of Clans Me lo guardo io Mi nonna e te Quando faccio Clash of Clans Quindi Come cansecore e cannoli Ragazzi Che cazzo li porta a fa? Cioè veramente Se guardiamo Io mi nonna Oh mio dio C'era ninja Nei server Oh mio dio Oh my fucking god Oh my fucking god Iure Dobbiamo vincere comunque Sergio 2 euro 2 euro Per la Mega kill Grazie mille bro No ho fatto una bella kill Cioè ho fatto diverse belle kill Sto giro Ma pazienza Non ho vinto Ripeto Non mi interessa Comunque c'era ninja nel server ragazzi Eh ovvio Ecco perché ho camperato Eh C'è un altro dietro E non se ne è accorto No Ariax sta lanciando Delle patate di merda Che se poco poco Le buttasse sotto Si è fatto coraggio Si è rotto Anche una Una tibia Secondo me Si può entrare da PS4 Se hai qualche amico Che gioca con PC Si Non è singolo però In singolo no Purtroppo per il momento Spero che aggiustino Questa cosa No Devono pensare a fare Quello per il mobile No ma penso Che sono due team di sviluppo Completamente indipendenti Lo stanno sfaccando male Si ammazzano Bro Non lo fa No ha rischiato Ti ripeto Sono rischi Sta rischiando Chi stai vedendo Ariax Samug Che non è neanche male Se la sa Se la sa giocare Proprio un tot C'è un altro a destra Un altro a sinistra Un altro dietro Mi pare No Sono tre In quel punto sarebbero 500 persone Questo è morto Ah ok Sono due Eh Quello al Fortino Si abbatte Quello al Fortino Quello al Fortino Sta sbagliando In questo momento Perché sta sparando All in Capito Invece Sta sbagliando Ma ce ne facciamo un'altra No 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 Basta Basta Devo montare un video Zì È mezzanotte Siamo tanti Per carità di Dio Domani magari La portiamo un po' più lunga Sti cazzi Che pure oggi Insomma tre ore e mezza Di live Ma è divertente Ma che scherzi Assolutamente Però ripeto Dobbiamo migliorare Su tante cose Ma ci sta Ma ci sta Ma ci sta Ripeto Io dovrei cambiare Dovei mettere Il mouse e tastiera Quindi Eh quello Cominci da adesso Sì sì Eh ma sai qual è il problema Che ora mi opero Sto fermo un po' di tempo Quindi che cazzo Ne so Eh che cazzo ne so Che cazzo ne so Che cazzo ne so Raga capito come Così ti aggiustano Pure sto cazzo di bug Delle armi Che scompaiono Magicamente Quello è un problema Quello è un problema Cioè tu sei in the game Cioè succede a tutti Però è un problema Se a te Ti succede Un secondo prima E magari A te Ti succede un secondo dopo E lui un secondo prima Magari vince lui Perché quel secondo Non gli è servito Infatti Lui è morto Uh che bella mossa Mi è piaciuta un sacco No no Mi è piaciuta un tot Non ne hai capito Non si regge quel fortino Se lo abbatte Ma infatti Infatti io non capisco Perché Sotto Ma sotto Ma come fai a giocare bene Col pompo e con le cose E poi mi giochi così Puoi distruggere questi Tu sei fregato No vabbè ragazzi Ma E spara Busta Oh Ha ucciso Ha ucciso Ha ucciso quell'altro Il cecchino Cioè quell'altro L'ha fatto fuori Ok Infatti non capisco Come sta giocando Però No ma come ha giocato Quello sul fortino E come sta a giocare Questo sotto Cioè Guarda guarda Lo sai che sta là Lo sai che sta là Perché Non lo so Vai 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 È chiuso Ma 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 Orca troia Mi sembra che Orca troia No no La battaglia è bella La battaglia è bella Per carità Però se non si muove No Eh bro Stai a Stai a Madonna Stai a Uh Uh Ma doppio Bocca Uh 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 Ah volevo Stacce io adesso Qua a farmi sto fight Mannaglia la puttana Occhio Te fai cascazio Ah 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 Bravo Samsung Samug No Samsung Che era l'ultimo Eh Non lo so Non lo so Bella anzio Bravo 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 Mi ha giocato bene Dai Signori che vi devo dire Noi vi ringraziamo per la compagnia Grazie mille a tutti Spero che la live vi abbia Intrattenuto E vi abbia Appunto Intrattenuto Divertito Quello che vi pare Quindi Grazie mille a tutti Grazie 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 Hendrix Max Live Voglio giocare da PS4 Non so come fare Già l'abbiamo detto Già l'abbiamo parlato prima Ci vediamo domani Con i server privati Per tutti quanti Grazie mille moderatori Buonanotte a tutti E Ci vediamo domani Ciao ragazzi Ciao 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 E tra l'altro Non metto sanna Perché non ha senso Mi piacerebbe farlo con voi Che scrivete Così in delay Non ha senso E non donate più Perché vabbè Purtroppo qualcuno passerà Quindi Scrivilo sulla chat No 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 Non scrivete Perché se no Poi se ne vanno Prima che finisce la live Ah ok Scrivete Scrivete Scrivete